Ehi ragazzi, state per vedere la puntata numero 6 del Breaking Italy Podcast, ospite Giuseppe Civati. Se eravate quindi preoccupati che uno non ci fosse abbastanza politica nei contenuti che vi propongo, e in quel caso immagino ci sia una sorta di ossessione, perché fondamentalmente non parlo d'altro da quando mi sveglio a quando mi corico, potete stare tranquilli. Anche se foste di quelli che affermano che gli ospiti politici a questo tavolo fossero sinora monocolore. Volevate qualcuno di sinistra insomma? Sinistra super sinistra? Eccovi Pippo Civati. Per chi avesse qualche anno meno di me, Civati è stata una figura abbastanza centrale nell'ala di sinistra del Partito Democratico nel periodo coincidente con l'ascesa di Renzi. L'ha sfidato per il controllo del partito, perdendo, ed è poi stato portavoce di una delle correnti più a sinistra. Sinché non ha abbandonato il partito per fondarne uno suo possibile. Attualmente è abbastanza lontano dalla politica attiva, anche se lo sentirete da lui, magari non per sempre, e ha fondato una casa editrice che si chiama People, che pubblica libri particolari. Abbiamo parlato di quello, di cosa la sinistra stia sbagliando, di cosa significhi essere di sinistra in questo periodo, e ovviamente da dove questa sinistra, che sembra sempre pronta a rilanciarsi e non parte mai, debba effettivamente ripartire. Vi piacerà questa chiacchierata? E Civati è simpatico e autoironico. Al solito, un ringraziamento ai supporters del Breaking Italy Club, che sostengono lo show e mi hanno aiutato a farmi un'idea su dove avrei dovuto condurre questa chiacchierata. E poi, un ringraziamento allo sponsor di questa puntata, che offre un prodotto molto interessante, Revolut. Revolut è un conto smart, del quale potreste aver già sentito parlare, se avete avuto a che fare uno, con persone addentro al mondo della tecnologia, alle quali piaccia gestire gli aspetti del proprio conto tramite smartphone, fare tutto online, evitare di andare in filiali a vedere gente, super importante, mi ci metto ovviamente dentro, sia tra chi viaggi tanto e abbia necessità di avere un conto sicuro dal quale poter gestire facilmente denaro e effettuare pagamenti senza l'ansia di ritrovarsi la carta clonata o altri disastri. Questo perché Revolut permette di aprire vari tipi di conto a costi bassissimi, addirittura a costo zero per il conto standard. Niente costi per le operazioni, di gestione, no commissioni per i prelievi in tutto il mondo, da qualsiasi bancomat, sino a 200 euro, ed è gratis. Si fa il conto online in un attimo da casa e hai un IBAN sul quale ricevere pagamenti, la carta che vuoi ti arriva via apposta, e se la perdi la puoi bloccare, sbloccare, tutto online. Si possono anche fare cambi di valuta senza commissioni. Non solo. Revolut ha anche due versioni avanzate, quella premium e quella metal. Quella premium include un'assicurazione internazionale che copre sia gli aspetti medici, ad esempio ti fai male all'estero, sia i ritardi sui voli e i bagagli persi. Tutto coperto. Ma ha anche altre funzionalità, pensate per i viaggiatori, come l'accesso alle lounge aeroportuali, sia cose per chi come me abbia il culo pesante e tenda a stazionare un po' di più, che però ha l'accesso all'uso di carte virtuali utilissimo che si possono creare dall'app se i siti dai quali comprate non vi sembrano affidabili e non vi fidate. Vi fate una carta virtuale usa e getta, la usate per fare quell'acquisto, e poi la mollate. Se ve la clonano non avete perso nulla. Ah, e la versione premium la potete personalizzare con delle grafiche, un po' all'americana, e permette persino di gestire 5 criptovalute. Non sono la persona più adatta a parlare di quello però. Ho paura che pronunciare la parola bitcoin ogni volta mi porti a essere sommerso da mail lunghissime. Non ce la posso fare. Questo lo dico per puro piacere personale. C'è anche la versione metal, che è super avanzata. Ve lo dico perché è molto figa, è di metallo. C'è in vari colori, nero, antracite, robe molto signorili. Quindi io di che colore l'ho presa? L'ho presa dorata la Donald Trump, perché sono un tamarro. Questa vi permette di ottenere sia un cashback quando la usate, quindi vi restituiscono parte del denaro che avete speso, così pagate tutto con la carta di metallo fingendo di essere ricchi, perché fare gli splendidi finisce pure per convenirvi. Avete anche un sistema di concierge, volendo, che vi aiuta a gestire in modo migliore il denaro. Insomma, Revolut, super sponsor. Se vi serve un conto, fatevi quello. In descrizione vi lascio un link. Se passate tramite quello lì, è gratuito persino ordinare la carta standard. Non pagate nemmeno le spese di spedizione, non pagate niente. E avete un nuovo conto, una nuova carta, tutto smart, zero spese. Bene, è tutto. Vi lascio alla mia lunga chiacchierata con Giuseppe Civati. Quindi, prendetevi da bere, rimanete idratati, a seconda di quale sia il vostro orientamento politico, asciugate il sudore con un fazzolettino. Sarà interessante. Quindi, Giuseppe Civati, grazie per essere venuto qui. Grazie a voi. Davvero, grazie di essere qui. Non so come dirti una cosa. Lo dico per chi ci sta ascoltando, perché poco fa tu mi hai detto che ieri hai incontrato le persone che conosci, mirto, cose. Noi, come tradizione, in questo podcast, abbiamo offrire il mirto all'ospite. Davvero? Sì, lo dico perché le persone che ci seguono non sanno che sono le dieci del mattino. Ah, infatti. Ok, quindi io te lo verso. Tu me lo versi se poi ne parliamo. E poi, sì, ok. Anche perché il mirto può essere traditore, ti accompagna. Ah, sì? Dolce me, sì. Ma l'hai scoperto ieri o è una cosa che sai? No, purtroppo l'avevo già scoperto. L'avevi già scoperto, ok. Sono passati, è un passato un po' di mirto sotto i ponti. Dai. Allora, volevo anche iniziare dicendoti una cosa. Non come offesa, nel senso come... Non in offesa, non sto cercando di darti del vecchio, quello che... No. Quando... Un po' è vero. No, ma... Quanti anni c'hai adesso? Iniziamo malissimo. Io ne ho 44. Ok, 44. Quando ho detto che saresti venuto al podcast qui in studio, qui l'età media è abbastanza giovane, diciamo, sono il più vecchio io, ne ho 35. Molti non sapevano chi tu sia. Ebbene, ma è normale. Ed è curioso perché comunque di politica qua si parla tanto. L'argomento principale del quale io parlo è le persone che gravitano attorno a quello che faccio. Certo. E questo mi ha un po' colpito. Beh, però io sono un po' fuori dal giro, no? Come c'era una volta in America, diciamo. Sono andato a letto presto negli ultimi anni rispetto a una politica più di prima fila. Quindi non mi sorprende. Poi i ragazzi hanno, quelli più giovani di noi appunto, nettamente più giovani di noi, hanno anche credo riferimenti diversi. A me fa sempre l'impressione quando quelli della nostra età, ti ci metto anche a te, sei rovinato, proiettano su quelli più giovani convinzioni, riferimenti, che magari loro non hanno, no? Cioè è molto paternalistico l'atteggiamento speciale. E invece appunto i ragazzi scelgono di volta in volta nuovi interlocutori. Spero che lo facciano, tra l'altro perché la preoccupazione più grande è che non lo facciano più. Cioè che non ne trovino più di riferimenti. Sarebbe drammatico, no? C'è un paese sempre più povero. Ah, culturalmente dici? Anche politicamente, soprattutto politicamente. Cioè per quando trovi qualcuno di cui ti fidi è sempre una buona notizia, non è importante la parte, no? È importante che ci sia una relazione con qualcuno in cui sperare, in cui credere, da cui farsi coinvolgere. Insomma, però appunto magari sono molto diversi da quelli che abbiamo in mente noi. Cioè per noi è naturale, non so, Dario Franceschini per noi è una figura, ormai fa parte del paesaggio, no? Sì, certamente. In tutti i governi, è eterno, diciamo. Però magari per un ventenne non lo è così automatico, no? Cioè ci deve pensare a chi è il ministro Franceschini. Faccio un esempio senza malizia. Ok. Perché sai, perché ti dico questo, perché nella puntata precedente a questo podcast è venuto un altro politico, però giovane, si chiama Giulia Pastorella, di Più Europa. Eh, io però non conosco lei. Ah, ecco, vedi, c'è questa incommunicabilità, ok. Lei sicuramente conosce te. Ma lei mi faceva un discorso un po' diverso e me lo faceva da giovane alla mia età. No, è più giovane addirittura di me. E che diceva? Mi diceva che, secondo lei, la questione della rappresentanza non deve essere così diretta. Cioè il fatto che i giovani non debbano necessariamente essere rappresentati nelle loro istanze, nelle loro problematiche, da giovani, ma semplicemente da persone che abbraccino le loro battaglie. Un po' lo fai in un certo senso, no? Sì, però non è semplice il rovescio, no? Quello che dicevi all'inizio, cioè che questi ragazzi poi sappiano che ci sono persone che lo fanno. Non è un automatico, ecco. Anche perché i canali di comunicazione, questo è un canale diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Io ne frequento molti, anche per curiosità mia personale, non soltanto per ragioni di consenso o elettorali, diciamo così. Però noto che in questi anni sono molto cambiate le cose. Insomma, quando ero ragazzo io c'era ancora Facebook, è arrivato quando io ho già 30 anni, per dire, no? Cioè ci sono cose un po' particolari che evolvono e che tu devi avere la curiosità e anche un po' di distacco, perché sennò sembra un deficiente, no? Cioè se il 50enne si mette… Ah, che dici che cerca di replicare, emulare gli ambienti e i modi dei giovani, ok. Diventa più cosplayer, diciamo, che politico. Ok, però effettivamente tu molte di quelle battaglie le combatti. Adesso tra un attimo torniamo indietro perché chi davvero non sa chi sei potrebbe essere un attimo perso. Però, visto che ne stiamo parlando, io ho notato che tu hai una tendenza a coprire alcuni argomenti come il green wave, ad esempio, le questioni ambientali, che sono tipicamente giovanili, no? Sì, beh… Lo fai per una sensibilità tua… Sì, beh, anche, ma in realtà io la chiamo la generazione G, quella che si occupa delle prossime generazioni, che si occupa di green, che è rappresentata in qualche modo da Greta o comunque dalle persone che come lei si sono mobilitate in questi ultimi mesi, che hanno, come dire, a che fare con fenomeni nuovi, perché poi cambiano gli strumenti ma cambiano anche i rapporti di lavoro. Noi ci siamo molto occupati di questa trasformazione dell'economia di piattaforma, perché i ragazzi lavorano per un algoritmo che magari li licenzia, che gli dà una retribuzione da fame. Sono tutte cose che sono innovative perché stanno nella realtà. Ecco, questo è un discorso un po' diverso. Cioè, secondo me, chi fa politica deve sempre cercare quello che c'è di nuovo o che è problematico, nuovamente problematico, no? Rispetto a una struttura che diamo invece per scontata. Pensa, appunto, ho fatto l'esempio dei rapporti di lavoro, sono in larga misura terribili, no? Precari, dici? Precari, la retribuzione è ridicola, non c'è continuità, non c'è nemmeno l'investimento spesso verso il lavoratore che potrebbe imparare e quindi valorizzare anche l'azienda per cui lavora, non soltanto se stesso. Questa dinamica, per esempio, è una dinamica iniziata quando ero molto più giovane. Io sembro un vecchio, mi stai facendo far salire. Sembro un riduce della prima repubblica. E questa invece, questa cosa, capisci, che è iniziata tempo fa, adesso esplosa. Cioè, la verità è che mentre una volta quando facevi un lavoro dignitoso potevi permettergli una casa, di avviare una famiglia, magari facendo dei sacrifici, adesso questa cosa sembra un tappone dolomitico del giro d'Italia, no? C'è una fatica infinita, la preoccupazione di non riuscire, l'aiuto dei nonni, dei genitori, insomma, è una dinamica perdente, cioè sempre che guarda indietro, no? Potremmo dire retrograda, nel senso che guarda a chi aveva una sicurezza, una solidità, magari una generazione fa. È abbastanza impressionante, no? Un paese che invece di guardare avanti dice speriamo che con la pensione dei nonni, con la casa della zia, io riesca a fare qualcosa, insomma, è terribile, questo è davvero drammatico. Beh, credo che sia una questione che si applica non solo a questo campo, ma un po' tutto, no? Cioè, mi sembra che in questo momento il paese, ma tutta l'Europa, sia attraversata da forze che guardano indietro. Forse perché quello che c'è dietro, o che si pensa ci fosse dietro, che è sempre visto con delle lenti un po' diverse da quella che è la realtà, è tranquillizzante. Mentre il futuro è incerto, quello che c'era prima, a parte che da noi c'è il doppio problema che questo avviene sul piano sociale e anche sul piano culturale, come dicevi giustamente tu in altri paesi è un po' diverso, insomma. In che modo? Beh, insomma, e non paragonerei l'Italia ad alcune aree metropolitane d'Europa che sono molto più innovative, integrate con tutte queste cose che stavamo dicendo, insomma, anche in positivo, cioè dove gli investimenti ci sono, dove c'è uno sguardo sul futuro, pensa a Londra, pensa a Berlino, anche ad alcune zone della Spagna, insomma. Quindi non soltanto i paesi nordici che sono fichi, per definizione, anche quelli un po' più scalcagnati. Dopodiché, eh sì, l'identità, anche questa ricerca di se stessi nelle radici è un modo ovviamente per trovare casa quando non riesci a fartene una nuova, insomma, non riesci a redarne una con un gusto diverso, e allora vai a cercare, in alcuni casi in buona fede, e in altri con una strumentalizzazione molto pesante. Notizia di questa mattina che il comune di Predapia non fa andare i ragazzini delle scuole ad Auschwitz, non dà il contributo per mandare il treno della memoria, capisci che così è un po' inquietante. È un po' certo. Cioè, quando il ritorno ha un passato, peraltro, come dicevi, non ha lenti critiche, per cui, insomma, a me una dittatura non piace, poi io sono di sinistra, però francamente non la sconsiglio, ecco, come modello. Non so, mi sembra assurdo doverlo dire, però, anche questa, come sai, io ho scritto questo libro su e con Liliana Segre, cioè, quello che sta succedendo è veramente sproporzionato e terribilmente sbagliato anche in questo caso, cioè, lei è stata deportata ad Auschwitz, è stata espulsa alla scuola da bambina, cioè, non se ne può neanche discutere della gravità, dell'immensità di quel male che poi la privata del papà, che è morto ad Auschwitz, lei l'ha visto per l'ultima volta su quel binario, cioè, capisci che uno dovrebbe avere veramente un rispetto, cioè, mentre lo dico un po' mi commuovo, no? Cioè, mi sento... E invece ormai diventa tutto così discutibile, no? E rovesciabile, e questo a chi è? Perché fa la senatrice a vita? Perché è un monumento della nostra storia repubblicana, perché poi, peraltro, sono trent'anni che incontri ragazzi per raccontarglielo, che io non so se tu hai incontrato trecentomila ragazzi... No, 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 no. Lei sì, neanche io. Perché ha che titolo... Appunto, capisci? Quindi, però, appunto, non ci sono più titoli, non c'è più autorevolezza, non c'è più un minimo di rispetto per una figura che supera tutte le articolazioni, le differenze, le divisioni politiche, per me, no? Cioè, non è che è della mia parte, è una... E questo per dire che c'è un tentativo come quando ci si butta su il localismo in modo eccessivo, ribadendo... A me capita spesso quando vengo in Sardegna, cioè che venga ribadita una differenza che va bene, però, per carità, la specialità di un posto non deve mai diventare un motivo di separatezza o di divisione con gli altri, perché abbiamo bisogno, invece, di costruire relazioni più forti, più produttive. Io penso così, insomma, mi danno del globalista, ma io preferisco immaginare che io e te possiamo, finita questo podcast, andare a parlare con un inglese o un francese e ragionare insieme sulle cose da fare per migliorare il mondo, non solo che tu parli con i sardi, io con i monzessi, che poi la Sardegna, almeno, è affascinante, Monza è una bella città, ma insomma... Ma io credo che sia, grazie per... Mi metto dentro al complimento, perché hai fatto un complimento alla Sardegna, ma... No, no, fai bene. Credo che sia perché è più facile. È molto facile, secondo me, trovare un'identità dicendo che cosa non si è, rispetto a che cosa si è. Cioè, se io non sono quello, sto comunque ribadendo che esisto e sono qualche cosa. Credo che costruire, soprattutto assieme ad altri, assieme ad un inglese, assieme a un tedesco, a qualsiasi cosa, sia molto più complicato, sia molto più difficile. Però è anche più... Non lo so, dà più soddisfazione. Cioè, il fatto che io e te siamo qui a parlare è perché ci siamo conosciuti attraverso l'informazione, eccetera, l'opinione pubblica, il dibattito, cioè io so chi sei tu, tu sai chi sono io e che possiamo confrontarci. Per me è un valore aggiunto della mia vita, della mia esperienza biografica. Cioè, senza adesso non ne voglio esagerare. No, ma infatti stop. Capisci cosa intendo dire? Sì, sì, ho capito. Cioè, a me fa piacere poterlo fare. Se invece fossimo tutti preoccupati di definirci, io e te, su basi, appunto, sulla nostra storia personale e quella del piccolo collettivo che abbiamo intorno, non ci saremmo incontrati, forse arrivo a dire, no? Se non avremmo avuto la curiosità di usare strumenti che parlano da Cagliari arrivano ovunque. Insomma, uno poi se li può guardare fra qualche, se ascoltare, o guardare fra qualche mese. Ma anche questo è paradossale perché più siamo sparati su una scena mondiale, per cui io ho dei tweet ieri che ci siamo occupati di questo argomento sull'antifascismo, l'olocausto, eccetera, che sono stati tradotti. Stamattina mi è arrivato un retweet dalla Finlandia in cui mi sono trovato tradotto in finlandese, quindi abbiamo la possibilità di accedere. Ovviamente non è così immediato, perché poi bisogna, c'è sempre dietro un lavoro, però insomma hai la possibilità di arrivare ovunque, però sei preoccupato della tua città, della tua regione in un modo un po' fortificato, no? Quasi. Adesso ho saputo che la Sardegna vuole fare tanti nuraghi in giro per il mondo. Ma non la sapete questa cosa. Per dire che è un po' strano, no? Cioè, come dire, replichiamo noi stessi invece di costruire scambi, relazioni, riportare persone che magari sono andate via, un altro tema gigantesco, no? in tutto il sud Italia. Ma purtroppo sì, sempre di più di tutto il paese, cioè di quanti noi preoccupati delle barchette che dobbiamo fermare per chiudere i porti, in realtà stiamo aprendo aeroporti verso non si sa dove, dove c'è più lavoro, dove c'è più dinamismo, dove ci sono ragazzi come adesso noi siamo ex tu un po' meno, ma io molto ex ragazzo, però trentenni che vanno via perché stanno meglio. Certo, certo. Guardi, quando vado all'estero faccio sempre questa cosa di offrire non un mirto, ma specialità locale. tra poco dobbiamo assaggiarlo almeno. Lo so, adesso mi sto caricando, ma di offrire una birretta sulla Rambla piuttosto che in un pub ai ragazzi italiani che sono andati via. Ti assicuro che se ne parlassimo con un po' più di proprietà di questo fenomeno sarebbe molto importante perché in realtà alcuni vanno via per motivi di indigenza o comunque di mancanza i prospettive. Altri perché sono bravissimi invece e quindi cercano la soddisfazione in un posto, in un campionato che gli faccia, gli dia il giusto valore appunto. Altri ancora semplicemente perché non vivono queste divisioni per cui una delle preoccupazioni per esempio di questi ragazzi che magari lavorano in informatica appunto in quei mondi invece dei flussi, degli scambi è quello di potersi ritornare e tu dice tornare dove? A Napoli? No, no, a Berlino perché la mia fidanzata adesso sta là, capito? E non c'è è come parlare di una grande regione, di una grande città in cui si cambia di posto ma non c'è un attaccamento o un radicamento esclusivo ed escludente. Questo secondo me è un tratto generazionale che noi dovremmo saper interpretare meglio e invece ne prendiamo tutti i punti di vista. Tornando su Liliana Segre sempre in merito alla questione web e al modo di vivere il web tu dici magari i giovani hanno un modo un po' diverso di vivere questi strumenti però ad esempio tutti gli insulti adesso lo dico per chi magari non lo sapesse ci sta ascoltando che hanno immagino comportato la decisione di mettere Liliana Segre sotto scorta anche questo è un dettaglio credi che sia una questione meramente dovuta al web perché no secondo me no perché vedi lì c'è un meccanismo a parte che tutta questa storia nasce all'atto dell'istituzione di una commissione contro l'odio contro la costruzione ovviamente non del singolo perché qui poi si gioca sempre a non capire non si tratta della battuta del cretino che insulta Civati chi se ne prega il problema è che come sai dietro a questi strani fenomeni ci sono anche un po' di regia c'è magari non bella come il tuo studio ma insomma credo che sia meglio di questo studio però diciamo forse ha più risorse del tuo studio per costruire campagne diffamatorie ci sono proprio persone che ci lavorano e qualcuno che o adesso non ho prove ma insomma magari lo finanzia questo lavoro oppure dice vabbè mi fa comodo questo è il punto in altri paesi in Germania per esempio si sono attrezzati e hanno costretto anche Facebook a un atteggiamento molto più pronto nel togliere mettere e c'è Facebook che ha costruito anche una piccola redazione piccola per i loro numeri sono giganteschi insomma però in cui fare questo mestiere di capire dove questi insulti o questi commenti diventano strategici diciamo così non sono occasionali quindi questo è il contesto il contesto è una commissione contro l'odio provoca odio e già e quindi è come dire conferma la sua importanza o comunque la sua necessità se tu fai una cosa contro l'odio e vedi crescere l'odio forse c'è una dinamica da interpretare in tutto questo il web ha una funzione che è quella che dicevamo prima che rende tutto molto più accessibile molto più immediato ma le pulsioni sono quelle che ci sono sempre state cioè se tu vai in un bar parlano come su facebook non è che c'è una differenza io su questo sono abbastanza netto è evidente che l'uso del del mezzo consente di replicare di universalizzare cose che una volta dicevi solo al tuo barista o a quello che era al baccone secondo me la leggo così non ci sono ovviamente è più facile fare gli stronzi in modo sistematico cioè se io e te questo è il punto ed è per quello che ci vogliono degli strumenti di controllo quantomeno di censura dei comportamenti non dicendo delle opinioni ma se uno costruisce Civati è un bandito perché è venuto in Sardegna perché è il capo della mafia cagliaritana non so se se uno lo scrive fa i meme e va avanti una settimana è un problema francamente cioè bisogna fermarlo cioè per me perché è diffamatorio perché non è vero perché è quello che aveva fatto con la Boldrini che ha 52 sorelle che non è tutto tutto falso per capirci quando il meccanismo è così non si tratta di censurare appunto un'opinione si tratta di fermare un processo diffamatorio come si farebbe per la carta stampata per la televisione se uno in televisione dice che tu sei un criminale tu devi poterlo poter replicare poter far smentire questa cosa io però in questo vedo due problemi dimmi il primo è relativo proprio alla commissione in sé perché quando ho visto e ho anche affrontato delle discussioni in merito molte persone che io sono sicuro non facciano parte di quel mondo che insulterebbe l'Irina Segre perché è ebrea perché è qualsiasi cosa lamentavano il fatto che sia una commissione dei poteri censori a decidere cosa si può dire però forse non hanno dopo magari lo guardiamo se abbiamo tempo di farlo non è questo l'obiettivo della commissione allora io nel testo adesso vado a memoria perché non ce l'ho qui però il testo della commissione diceva fondamentalmente bisogna individuare questi comportamenti che anche tu dici che sono sbagliati anche io penso che siano sbagliati e la stessa commissione li può poi segnalare ai siti chiedendone la rimozione sì però come puoi immaginare non sarebbe la commissione cioè il lavoro della commissione preparerebbe una serie di strumenti che poi il parlamento dovrebbe votare non è che la Segre o adesso la Segre ne parliamo con il dovuto rispetto ma neanche gli altri colleghi senatori o parlamentari o deputati si mettono a dire no guarda c'ho sto sito cancellamelo non funziona così cioè ci sarebbe ovviamente un apparato tecnico e sarebbe da votare dovrebbe votarlo il parlamento diciamo che quello sarebbe un lavoro preparatorio per capire come gli altri paesi si sono mossi cosa possiamo fare noi proprio per evitare di censurare poi opinioni e sarebbe una bella sfida anche per la Meloni per Salvini per tutti quelli che si sono molto lamentati della cosa perché anche loro poi si lamentano di essere insultati cioè Salvini ha detto io sono insultato come la Segre che peraltro è molto grave è un po' grossa diciamo però capisci allora se anche tu sei insultato troviamo insieme degli strumenti che consentano ai tuoi ai miei sostenitori amici e compagni di dire delle cose che riteniamo giuste senza che questo significhi darti del ladro del truffatore dello schifoso e poi potrei peggiorare col mirto mi spiego quindi secondo me lì c'è un fraintendimento perché poi c'è anche un po' di incultura lo dico senza snobismo però le cose bisogna un po' sapere come funzionano la commissione parlamentare di per sé al massimo produce una legge che poi il Parlamento o comunque predispone a un testo che poi il Parlamento voterà non è che fa ovviamente mette le basi per qualcosa che poi potenzialmente diventa legge sì nello stesso tempo però appunto sarebbe curioso seguire quel dibattito cioè quella discussione efferata sui social che è partita quando Segre ha fatto questa proposta che è stata poi votata in Senato potrebbe essere fatto con intelligenza in una commissione parlamentare cioè quello che stiamo facendo direte come evitare che diventino immediatamente censori questi strumenti come hanno fatto in Germania o negli Stati Uniti o in Spagna o chissà dove quali problemi hanno incontrato cioè il lavoro del Parlamento dovrebbe essere quello dopodiché sai noi facciamo fatica a fare cose ovvie in questo paese quindi non è semplice però mi piacerebbe che Meloni e Salvini i loro rappresentanti di queste cose discutessero lì dentro poi che si chiami commissione Segre perché la proposta della Segre secondo me è un vantaggio perché ci richiama a una dignità istituzionale e tu perché pensi che non lo facciano invece le forze politiche più a destra ma perché l'hanno perché è tutto strumentalizzato da tutti cioè questa è la verità drammatica lo dico con grande dispiacere però è tutto fiction cioè ormai non c'è niente che si discuta per il merito della cosa che è ma è tutto è cosa ci guadagno a dire che la Segre però anche lei si è fatta strumentalizzare poi l'argomento più ridicolo perché insomma anche questo forse è il peggiore di tutti perché una donna del suo spessore della sua storia non si fa strumentalizzare dal PD o dai 5 stelle adesso voglio dire quindi è stupidissimo come argomentazione però è tutto giocato per piegarlo è un po' come mi chiedevi prima come funziona il web rispetto a certe cose è tutto proiettato è tutto manipolato è veramente insopportato questo lo fanno tutti non è che lo fa solo la destra è un'abitudine quotidiana a costruire una adesso si dice narrazione che è un'altra parola che ci siamo inventati un racconto un racconto in cui le cose vengono distorte appositamente cioè tu mi dici ok la commissione è segre io la voto però non deve essere uno strumento per censurare le mie opinioni io sono d'accordo con te perché dobbiamo farla diventare una polemica che mette in campo l'olocausto la nostra dittatura di 80 anni fa le leggi razziali cioè capisci fermiamoci se vogliamo discutere mi dici guarda Pippo la tua proposta mi va bene fino a qui stai attento che questo è un problema e io ti dico che dovrebbe far così se fossimo in un'azienda in una scuola in una famiglia e invece cosa mi conviene rispondere a Civati che mi propone questa cosa faccio il matto insulto io colpisco per primo cioè tutto un gioco molto elettorale si direbbe molto stirà cosa è il risultato che nessuno capisce più niente tanto che ti ripeto secondo me la commissione sull'ate speech è come si fermano meccanismi deliberati di diffamazione delle persone secondo me è interessante lo dico a favore di chiunque anche di Salvini o della Meloni o delle donne in generale per esempio che sono sempre le prime a essere colpite da questo linguaggio di merda scusami così no no tranquillo qui sei libero due come si fa a intervenire perché non è banale anche dal punto di vista dello strumento sia legislativo che tecnico cioè il tempo di cancellazione di un post pareggia però tutto il casino che ha combinato cioè io scrivo tu sei una bruttissima persona poi prendo l'aereo per tornare a Roma e nel frattempo tu dici ok però sta andando sta facendo like questo post diffamatorio come si fa a fermarlo non è banale per cui bisogna coinvolgere anche le piattaforme è una grande questione del rapporto alla democrazia capisci che è un tema appassionante solo che se lo trasformi in un argomento da bar da tirare addosso agli altri non faremo niente poi sarà una canea infinita quella roba lì no perché ovviamente finirà così ma la Meloni che chiama Segre per dire io voglio poter continuare a difendere la famiglia tradizionale capisci che sta interpolando perché nessuno ha mai detto che lei non può difendere la famiglia saranno cavoli suoi diciamo ma è della sua coerenza o delle sue abitudini difendere una cosa piuttosto che un'altra è chiaro che se tu però nella difesa della famiglia tradizionale dici che i gay vanno massacrati secondo me non va bene dopodiché non è la commissione Segre che risolverà la commissione contro le speech che risolverà questo problema però forse Meloni Salvini tutti quanti dovrebbero dire che gli omosessuali vanno rispettati anche se difendiamo la famiglia tradizionale non so come dire non so se mi sono spiegato credi che sia una questione di ammiccare un elettorato di un certo tipo? ma sì paradossalmente di costruire quasi un genere letterario perché ormai cioè si allontanano sempre di più dalla realtà cioè io non credo che Salvini e Meloni ce l'abbiano con i gay però non si rendono conto che dire certe cose creare una campagna così battente alla fine secondo me il risultato è che che ci sono problemi in quel mondo lì eh per forza perché tu capisci perdi ti allontani sempre costruisci una retorica che si alimenta da sola che appunto prescinde dal dato reale poi un po' è così è in politica non è che sto facendo il purista infatti adesso ci arriviamo ma però nello stesso tempo cioè tu ti allontani talmente tanto che non stai più di cosa stai parlando cioè cosa c'entra la famiglia tradizionale con le speech non è che mi spiego sì ma io credo che sia anche una questione di attenzione dell'elettorato perché noi adesso stiamo parlando di una di una cosa che è i rapporti tra democrazia e facebook ad esempio che è uno dei tanti elementi che puoi affrontare con interesse diciamo in piccoli gruppi di persone ma non nella stragrande con la stragrande maggioranza degli italiani se io prendo questo argomento cerco di trattarlo a tavola con la mia famiglia la famiglia della mia compagna eccetera non lo so quanto interesse generano nella gente comune che non vive internet con così tanta passione con così tanto interesse quindi ho sempre un po' l'impressione che da parte di tutte le forze politiche sia come se ci fosse a teatro un qualche tipo di rappresentazione ma la maggior parte delle persone fosse lontanissima e distratta e quindi tu per attirare la sua attenzione devi fare dei gesti molto ampi devi fare molto rumore per cercare di farti guardare e quindi di fatto lanci sempre quei 3-4 messaggi fai sempre quelle 3-4 mosse molto plateali sono d'accordo con te però capisci che è tutto sbagliato è tutto da rifare come diceva quello là nel senso che è proprio così però su quella scena non va in scena il paese i suoi bisogni le sue urgenze i suoi problemi anche perché sono difficili come dicevi prima è più facile dire che facciamo un po' di casino perché poi abbiamo bisogno di richiamare è ragionissima sul tema di richiamare l'attenzione però questo va a scapito della qualità della democrazia del dibattito non interessa a nessuno tu dici alle persone non interessa neanche a me cioè non so se mi spiego io arrivo a dei livelli non sono più in parlamento ma non è che faccio l'antipolitico guardo con grande rispetto con grande passione come prima però essendo un po' più distaccato di prima mi sembrano un po' mostruose questi atteggiamenti ok cioè come dici tu è proprio una maschera teatrale quella che indossano tutti questo non va bene perché un po' più di forse anche di noia non so come dire di quotidianità di routine un po' meno di esplosività continua per cui ogni giorno se guardi i giornali c'è sempre una polemica gigante e su niente capisci è una distrazione definitiva e secondo me è la cosa peggiore anche delle speech poi alla fine anche noi sono 20 minuti che stiamo parlando del modo di parlare non di che cosa diciamo questo è il punto secondo me centrale è quasi un paese che legge poi io faccio l'editore adesso quindi l'argomento mi preme però non leggiamo molto non abbiamo grande investimenti sulla scuola sulla formazione cioè siamo un paese strano no? anche qui è un po' che scivola nelle classifiche eccetera però ci piace tanto costruire racconti quasi letterari appunto perché alla fine di noi stessi dici del paese esatto di noi stessi dei suoi protagonisti dei suoi capipopolo ti ripeto poi io parlo da una parte politica che rivendico sempre però questo va anche per i nostri cioè pensa alla discussione tra Renzi e Zingaretti ma chi se ne frega cioè tu dici che Facebook non interessa ma non interessa niente neanche credimi non è che faccio lo snobbo ma perché cioè Renzi si perde l'Umbria è colpa di Zingaretti è colpa di forse è un po' più grosso il motivo per cui il PD e il centrosinistra insieme ai 5 Stelle hanno perso l'Umbria ok secondo me e qual è il motivo? beh non lo so cioè lì c'è stata una vicenda giudiziaria spaventosa c'era un sistema un po' come dire sclerotico diciamo così da tanti anni c'erano c'è un impoverimento di quella regione che sta scivolando nei dati verso quelle meridionali c'è un sistema molto compromesso dal punto di vista della gestione del potere con la massoneria con purtroppo anche la presenza mafiosa cioè ci sono tanti argomenti ok non era una situazione dorata quella dell'Umbria capisci? non è che è perso perché Renzi è antipatico perché Zingaretti è incerto ecco se vuoi parlarne così possiamo stare qua tutto il giorno a dire secondo me era un po' più colpa di Renzi però capisci che è un modo di raccontarsi che come dicevi tu bene cioè richiamiamo l'attenzione su noi di noi non sull'Umbria stiamo parlando di noi due tu sei Renzi io sono Zingaretti per fisico per Zingaretti Renzi se posso permettermi scherzo però ho capito cioè facciamo un discorso che è totalmente autoreferenziale ego proprio ego e questa cosa secondo me le persone dopo un po' infatti ci sono i tifosi non ci sono più quelli che ragionano intorno a te di cose sempre di meno cioè qualcuno come me ha la fortuna di averne ancora qualcuno di qualche persona ma sono tifosi che sostengono una bandiera e basta e questo è un'altra cosa che è pericolosissima perché poi i tifosi tendenzialmente se dalla Juve dici intermerda di natura e viceversa Rubentus ho capito però non è che possiamo andare avanti così tutta la vita capisci cioè non c'è nessun dibattito vero c'è uno schierarsi sulle curve e tu pensi che questo sia cambiato perché c'è una domanda adesso la recupero che è di Luca Boccioli che è molto molto ficcante in merito a quello che stai dicendo ne prendo solo un pezzo adesso che dice cosa pensi sia cambiato tra il fare politica oggi rispetto al secolo scorso ora ovviamente non è che voglio darti dell'ante di Luviano del vecchissimo però tu hai iniziato a fare politica che eri molto giovane giusto avevi 20 anni 22 cosa eri consigliere giusto ero consigliere comunale con i democratici di sinistra era diverso quel mondo rispetto ad adesso cioè tu questi tifi che tu hai descritto non c'erano beh insomma c'era allora spuntò Berlusconi che polarizzò moltissimo in termini di tifoseria anche per ragioni milanistiche quindi era già così in un certo senso sì però c'era anche dell'altro cioè c'erano l'ultima coda dei grandi partiti politici che comunque che si agganciavano a degli ideali specifici adesso noi abbiamo pubblicato un libro su Mattarella e il rapporto che ha con i giovani italiani e la percezione che hanno i giovani che secondo me è un libro carino ovviamente non vi faccio pubblicità e lo spiego solo Mattarella era un grande politico cioè rileggerlo oggi è chiaro che si sembra Plinio il vecchio e l'anteguerra diciamo millenni fa però quando lui ha fatto delle cose le ha fatte bene e tu le capi cioè rileggerlo è ovviamente noioso non è veloce come adesso però forse era un po' più lento magari qualcosa si capiva parlava una platea di persone per esempio erano tanti iscritti ai partiti era tanta la partecipazione poi magari non serviva non funzionava non è che c'è l'unità dell'oro però c'era un posto dove fare queste discussioni che non era solo tu sei cretino e tu di più no tipo sgarbi cioè siamo diventati tutti come il solo che sgarbi ha anche un po' di talento nel fare casino gli altri sono lo scimmiottano gli urlatori quel posto lì c'era c'era un discorso collettivo cioè se essere della democrazia cristiana o del partito comunista o del partito socialista non era solo una bandiera c'erano dei libri c'erano delle persone c'erano anche tanti leader non solo uno se ci pensi queste correnti di cui si parla sempre con un po' di fastidio però in realtà rappresentavano ispirazioni la democrazia cristiana ce n'erano non so una cinquantina nel pc ce n'erano tante anche se il pc era molto più controllato un po' questo centralismo per cui tutto si doveva risolvere all'interno del partito esatto che poi non era vero neanche allora perché tutti sapevano benissimo che Berlinguer Napolitano Giallo Amendola Ingrao quindi già c'erano queste cose comunque si parlava di queste figure certo però era una cosa non so come dire non era legata alla personalità a quello che sta a magnà Berlinguer Berlinguer diceva delle cose e su questo si costruivano schieramenti interni esterni c'era un dibattito se ci pensi adesso la figura per me è più incredibile in tutta questa storia è quella del presidente del consiglio ma non perché ce l'abbia con lui però uno che fa il presidente metti che stai parlando con Civati che è stato premier con Salvini e gli fanno intervista e dici adesso faccio premier con Zigaretti non è normalissimo cioè provo a avere qualcuno invitalo Conte magari viene vediamo cioè è forte al di là del giudizio morale o politico capisci cosa cioè cavoli questo era il presidente il consiglio con gli uni e poi anche con gli altri non lo so cioè si perde un po' il contenitore il contenuto si perde un po' cioè Conte chi è? è quello che abbiamo conosciuto mi spiego sì ma quindi alla fine stiamo facendo un discorso di contenuto che sta a supporto di queste varie figure no? di pensieri di pensieri di ideali anche no? di grossi ideali che c'erano alla base del partito comunista di quello socialista paradossalmente le figure della destra sono molto più riconoscibili non che cioè non c'è una grande elaborazione secondo me nel dettaglio perché poi sono grandi slogan e parole pesantissime però su alcune questioni loro ed è per quello secondo me che funzionano di più al di là di tante ragioni che poi possiamo indagare ma sono più riconoscibili cioè tu sai che Salvini è quello che dice tra quattro cose sì e che intorno a queste picchia ripicchia francamente uno dei grossi problemi del centro-sinistra di adesso è che cioè Zingaretti qual è la battata di Zingaretti? no è una domanda seria è una mia secondo me non l'ha ancora trovata o comunque non riesce non ha la precisione o il coraggio o la possibilità di farlo non lo so però insomma di dire questa è la mia battaglia per i prossimi sei mesi che era anche l'unico modo per stare al governo perché per fare un governo così Salvini va al 100% cioè lo votiamo tranne me che non lo votiamo gli altri lo votano capito cosa intendo dire quindi è un lavoro significativo da fare quello di individuare delle questioni che sono ovviamente degli slogan che sono anche cose da spendere velocemente ma che abbiano un portato per esempio a me fa più paura di Salvini non fa tanto paura al modo che non mi piace ma insomma questo rapporto con la Russia ecco dove ci porta per esempio cioè non è che è una domanda maliziosa cioè loro dicono meglio la Russia dell'Europa di fatto ok parliamone cioè spiegamela sono curioso perché è grossa anche quella lì ma tu pensi che ci sia una sensibilità dell'elettorato ad esempio sulla questione russa perché io non credo secondo me sì perché lì si parla di cose che si mangiano non quelle che Salvini fa vedere nei tweet o nei post su Facebook indubbiamente ma è percepita questa cosa eh non lo so secondo me questo è un tema per esempio per quello che ti dico lì c'è la ciccia sarebbe da discutere parecchio cioè non è soltanto una roba per fare gli spiritosi al di là dei soldi dei rapporti di Savoini dello stesso Salvini che andavano in Russia a fare qualche cosa lasciamoli da parte un attimo ma se tu scegli la Russia come interlocutore come sistema di valori come modo anche di interpretare la democrazia fai una scelta molto impegnativa di questo mi piacerebbe che se ne con calma come stiamo facendo io e te cioè finisco di parlare io tu dici ok ti faccio una domanda sarebbe un podcast nazionale interessante Salvini spiegaci perché preferisci la Russia hai valutato le conseguenze che cosa significa cioè Putin al di là del fatto che ti serve nei comizi ma è presente che cosa fa Putin chi è come è strutturato il sistema cioè ci piacerebbe davvero il sistema economico della Russia con gli oligarchi non lo so per dire sono domande che sarebbe bello fare un argomentare ragionare e capire alla fine secondo me le persone interesserebbero per esempio il gas è una questione che riguarda la tua parte la Sardegna però ci sono tanti argomenti il petrolio le fonti fossili il modello di sviluppo sono tutte cose che le persone se fossero abituate a ragionare così secondo me troverebbero interessanti se il tema invece è semplicemente che cacchio ha detto Salvini e come gli ha risposto Civati boh o Zingaretti Renzi o quell'altro la Meloni contro che poi sembrano quei film degli anni 70 Milano spara Roma risponde boh Godzilla contro Fantozzi poi non so perché ok lascia che ti faccia una sorta di mezza critica su questo perché quello che dici io lo condivido però deve saltare fuori Renzi a un certo punto nella discussione di pazienza ovviamente io ti ho conosciuto ai tempi di Renzi politicamente diciamo io ti ho conosciuto proprio mentre eravate alla Leopold assieme ancora me lo ricordo che mi sembra ieri che è parte del fatto di essere vecchi ok salute banalmente è sembrato che lentamente il tuo distacco dal partito democratico su quale io ho un sacco di cose da dire magari poi le diciamo la cosa principale è che si è avvenuto per questioni che non erano così sentite nel paese alla fine la rottura tu l'hai avuta principalmente sull'Italicum no? no su cosa che cosa è stato il momento di rottura questa no allora questa no intanto per esempio ecco guarda l'esempio della prima Leopolda è perfetto perché la prima Leopolda che io rivendico ancora nonostante poi con Renzi non abbiamo più trovato la sintonia diciamo era un momento in cui c'era la ciccia cioè il tema era il PD il centrosinistra era all'opposizione di Berlusconi voleva fare un governo con Casini stava cercando poi finì con Monti poco dopo c'erano sempre quelli che ci sono anche adesso più o meno assolutamente c'era un dibattito tutto involuto non si riusciva a uscire da questo guscio eccetera eccetera noi proponevamo almeno per quanto mi riguarda un percorso che tenesse insieme anche persone diverse perché i verenzi eravamo già diversi allora non è che non lo sapessimo insomma venivamo da due traiettorie diverse che potessero ricostruire questo campo in cui stavano quelli un po' più moderati quelli un po' più radicali tra virgolette adesso lo semplifichiamo che però era l'obiettivo del PD questo esatto ma di farlo davvero perché il tema era il PD l'aveva fatto ma non ci aveva creduto la nostra critica di allora noi ci provavamo anche perché avevamo 30 anni ci si prova dopo di che questa cosa lui l'ha piegata tutta in una lui l'ha voluta piegare nel senso che dicevamo prima cioè il leader il suo gruppo di spinta tutti d'accordo se non ci deve essere nessuno che dice scusami secondo me questa è una pirlata dritti come i fusi e secondo me questo è stato il suo errore poi perché lo sta rifacendo cioè lui adesso tornerà centrale ma in un modo sempre pesantemente dialettico con tutti gli altri che poi a un certo punto non lo sopporta più questa è la mia teoria psicologica comunque la tua proiezione è comunque che lui tornerà scusa se ci interrompo è già tornato perché gli altri sono fermi come dei cancelli come diceva Rigosaki e lui è veloce comunque molto veloce anche troppo talmente veloce che si impappina si incarta da solo cosa mi chiedevi la tua distacco con me ci ha avuto due cose fondamentali la prima è di senso le due cose su cui abbiamo litigato di più sono il jobs act quindi i diritti del lavoro e quello che dicevo all'inizio della trasmissione della podcast e l'altra cosa era lo sblocca Italia perché sono tutti Greta Thunberg l'ambientalismo ma lo sblocca Italia era una roba se vuoi ne parliamo tutta la notte perché era pieno ma no insomma era tutto un modello vecchissimo di infrastrutture pesanti inceneritori scelte discutibilissime sulle concessioni autostradali cioè l'establishment le cose era un mezzo regalo cioè era una roba bruttissima da vedere cose che avrebbe fatto Berlusconi quando era più giovane diciamo con insomma legge obiettivo adesso andiamo indietro un po' di tecnicismi però diciamo lavoro e ambiente sono stati i luoghi su cui abbiamo su cui abbiamo litigato e poi c'era un'altra questione per quello che diventerà centrale Renzi perché adesso lo potrà fare senza rompere le scatole a quelli come me cioè lui voleva prendere i voti dei di Forza Italia semplifico già quando era a Palazzo Chi già prima già quando eravate assieme ancora no beh quando facevamo la Leopold eravamo all'inizio quando lui è arrivato a Palazzo Chigi peraltro in modo truculento perché facevano fuori il povero Letta come quella giraffa di Copenaghen la Paragonammo quella storia della giraffina dello zoo di Copenaghen detto questo lui arriva lì e inizia a fare tutte cose che piacciono a quell'elettorato pensando di ingrandirsi tipo Napoleone Bonaparte e di tenere la propria parte sedata perché io non so come si facciano a votare certe cose infatti non le votai poi a un certo punto quando accumuli dieci non votazioni vai via perché non è che non puoi votare mai perché vuol dire che hai un problema tuo o ce l'hanno loro insomma uno dei due deve prendere anche la decisione comunque lui fece la cosa sulla prima casa che adesso anche questa qua una forza di sinistra che toglie le tasse a quelli che le possono pagare in un momento in cui ci sono quelli che vanno via perché non c'è lavoro perché non c'è eguaglianza in niente cioè se io la tasse sulla casa la posso pagare fammela pagare piuttosto usa bene quei soldi no di la tasse sulla casa di civati che è benestante ok la mettiamo per finanziare la ricerca l'alta ricerca pubblica che ne so sai che abbiamo un sacco di enti pubblici con i precari mettiamo a posto non so dai delle finalità però non togliermi le tasse a chi le può pagare in un momento così cioè fossimo in un momento di crescita al 10% in cui ci arricchiamo ogni secondo io e te stando qua soltanto alla luce degli faretti ma quando parli di persone che le possono pagare intendi tutti i possessori che hanno una casa no quelli che stanno bene perché l'esenzione era già molto larga e poi c'erano strumenti per non farla pagare a chi non se la poteva permettere ma quelli che stanno molto bene perché non devono pagare le tasse capisci che perché ovviamente sono anche quelli che fanno opinione quelli che stanno molto bene sono anche quelli che magari fanno i giornali che fanno che hanno le aziende va tutto bene però il problema che non è che voglio sempre stare dalla parte dei deboli a tutti i costi però se c'è un problema di disuguaglianza tu intervieni a favore di chi è diseguale chi è tagliato fuori non a favore di chi è tagliato dentro non so come dire e ne ha fatte così un botto peraltro sta rinverdendo battaglie sue perché questa storia del contante di cui hanno per dire cose che interviene lui lo alzò alzò la soglia a 3000 euro io mi ricordo che fece una litigata a furibonda con una persona di cui non faccio il nome perché nel partito sì che prima stava con me poi hanno passato con Renzi e gli dice guarda potete fare tutte le carriere del mondo e scegliere il leader che è più funzionale al vostro però insomma se tu non puoi essere contro la diffusione del contante sulla base di ragionevolissimi motivi che sono la corruzione il nero la provenienza di capitali il riciclamento cioè possiamo fare un elenco anche banalmente la sicurezza delle persone perché se un giro con 3000 euro mi derubano qua fuori non è divertente se ho una carta di credito la blocco e posso risalire anche a chi come è stata usata ma al di là di questo non puoi aumentare da 1000 a 3000 euro il limite del contante cioè è una mossa assurda fatta perché siccome l'argomento è tornato in questo paese io non riesco a capire perché cioè non è non è razionale tra l'altro ti do un dato ridurre non riesco a capire perché significa che non vuoi dire quello che pensi no è che è una mossa per come dire lasciare una serie di zone grigie in questo paese perché sono più confortevoli che pagare le tasse che fare però per esempio io che adesso ho un ASRL e ho la fatturazione elettronica cioè boh di cosa stiamo parlando cioè io sono abituato ho dei flussi ho un database un aggiornamento degli ordini anche se lo faccio vedere è divertente sì ce l'ho anche io ma poi sai che dicono cioè ti vai a lavorare posso testimoniare o il computer se volete vi faccio vedere come lavoriamo noi però è tutto è tutto tracciato quindi qual è il dato che stavi per dare ti ho interrotto no ti stavo dando questo dato perché il paese che è più avanti nella riduzione del contante è la Svezia non so se siete capitate di andare in Svezia recentemente ci sono dei posti dove non puoi pagare con le monetine neanche il caffè cioè tu dici il caffè lo pago no qui non si prendono monete c'è scritto proprio in grosso all'ingresso perché l'hanno fatto perché ci fu un'estate in cui in Svezia rapinarono non so quanti supermercati e si creò una psicosi della rapina e ovviamente i contanti erano oggetto di contendere cosa succede che gli svedesi quindi dicono passiamo i pagamenti elettronici siamo un paese che si può permettere ovviamente ha dei costi questo la transizione va finanziata la discussione e trasformano il paese in questa direzione fanno diventare tutto digitale e si accorgono che ridurre il contante significa risparmiare mezzo punto di pilla sono tanta roba più delle tasse sulla prima casa nella gestione del contante perché stamparlo diffonderlo spostarlo conservarlo fare il conto alla fine del bar dove abbiamo appena appena preso il caffè la sera stasera devono fare il conto che torni quello che pensano di aver incassato con i soldi che sono in cassa anche banalmente il commesso che magari si allunga i 5 euro tutte cazzate se mi permetti però questa cosa costa un sacco di soldi costa un sacco di contanti potremmo dire quindi che cacchio di argomento è poi io ti dico se uno anche l'argomento che i vecchietti non sanno usare la carta ma non è se poi uno non è capace lo si aiuta gli si lascia un tempo per adeguarsi sulle piccole spese nessuno ti viene a dire no sei costretto siamo svedesi ok ma non è vero che questo possa avvenire cioè se mi compro una giacca da 1000 euro la pago in contanti no perché l'argomento non è casuale perché a Verona un commerciante mi ha fatto questo esempio vengono i russi pagano in contanti capito perché non possono pagare con la carta i russi poi banalmente anche questo non te lo dice nessuno la legge non prevederebbe che tu non puoi pagare con i contanti tu semplicemente se paga i contanti devi dare i dati della persona che sta pagando eh certo ma si parla di transazioni molto sostanziosi se uno ti paga una macchina in contanti sto esagerando ma appunto un bel vestito per il matrimonio 2500 euro semplicemente diciamo se non hai la carta mi devi dare i tuoi dati io devo riferirli all'agenzia delle entrate o questo si può rendere più automatico più semplice sì però io non lo trovo così angosciante non lo so io vendo libri eh quindi allora io sono d'accordo con te io sono sempre stato molto talebano sotto l'aspetto del pagare tutto con la carta anche perché io sono pigro e voglio pagare tutto con la carta ma poi è più sicuro per tutti sì solo perché non voglio andare a prendermi soldi al bancomat ma a prescindere da quello chi vuole farti una critica quindi io faccio il ruolo in questo momento ti direbbe che è una questione di controllo tipo ad esempio non voglio pagare con la carta perché mi controllano se pago col contante e c'è scritto Alessandro Masa l'ha pagato col contante è comunque una sorta di controllo questa è fondamentalmente la narrazione come hai detto tu che viene fatta beh allora però do un consiglio a te che mi critichi così di staccarti da facebook di ragionare anche sull'uso del cellulare perché cioè io penso noi siamo troppo controllo infatti questo è un po' come la commissione dell'odio parliamo di come ridurre o rendere più stringente la nostra privacy la proprietà dei nostri dati che tra l'altro sarebbe un grande argomento pubblico perché noi i nostri cazzo di dati sono dell'Apple di Zuckerberg dell'IBM tu lo sai che la regione Lombardia ha comprato i dati sanitari dal gestore di questi cioè non è che sono suoi gli ha dovuti comprare le informazioni sui suoi pazienti ma porca miseria cioè è delirante quindi questo è un argomentone bellissimo come vogliamo tu Meloni Salvini Renzi parlateci di non di Bibiano parlateci di come funziona il mondo parlateci del mondo però appunto anche questo stiamo parlando di una soglia in cui che rimarrebbe cioè tu fino a 200 500 euro puoi pagare con il contante anche nelle democrazie più avanzate nei nostri modelli più digitali di che cacchio stiamo parlando qua si parla di cifre grosse di tu vai a prelevare 100 euro 200 euro col banco non è che vai a prelevare 10 mila euro a parte che anche il banco ma te lo sa sa dove sei allora dovresti vivere quei soldi sotto il materasso e farti io i parlamentari gli diciamo ma tu lo stipendio lo prendi col bonifico perché già sei controllato no ridendo quindi il tema è come si lascia un minimo di libertà per chi si sente osservato e nello stesso tempo come si evita però che un paese vada a stavo dicendo una volgarità vada a finire male perché siamo poi in realtà chi è che interessa poter pagare con 3.000 euro o 5.000 euro mi spiego chi è che gira con 5.000 euro ma allora la mia domanda è questa siccome questo discorso non è che stiamo parlando di scienza missilistica è un discorso abbastanza lineare abbastanza chiaro abbastanza condivisibile io sono 10 anni che lo dico c'è un mio libretto di 10 anni fa tu hai un po' hai molta esperienza di rapporti con politici anche di posizioni opposte all'interno del parlamento ma anche fuori eccetera questa questione non è che non è necessariamente non compresa da chi abbraccia una posizione diversa no? cioè se tu mi parli di una litigata con qualcuno che era nel tuo stesso partito sì sì è vero l'ha capito cioè sono sicuro che l'abbia capito ma infatti è strumentale cioè secondo me non è razionalmente spiegabile la posizione se no a parte l'argomento che hai tirato fuori tu che però è un altro pezzo del ragionamento secondo me di come va questo paese mondo pianeta di come funzionano le strutture fondamentali dell'informazione dell'economia cioè siamo tutti controllati tantissimo non per come paghiamo ma molto prima da come prendiamo i soldi anche se vuoi quindi è un ragionamento interessantissimo ma il resto il resto degli argomenti sono tutti finalizzati a conservare il consenso cioè quindi se io sono abituato guarda te la spiego così io prendo 500 euro in nero li contabilizzo magari no magari lo faccio anche perché sennò non riesco a pagare il dipendente non è che sono per forza un narcotrafficante però non va bene secondo me è lo stesso e quindi se tu mi costringi a digitalizzare tutto invece di 500 c'è una 50 di euro su cui fare quel lavoretto lì è così dai adesso non prendiamo ci siamo in una sede di verità ok certo breaking italy la verità è quella io che cioè con i libri tu puoi fare un sacco di nero volendo nel senso che sono cose che con cui tu vai in giro però è giusto contabilizzarle io per esempio noi alle fiere adesso i pagamenti con la carta hanno superato quelli incontanti ma io sono contento anche perché se no la persona mi è compreso perché io faccio anche i banchetti a fuori di ci vai a lavorare faccio anche i banchetti alle fiere faccio tutto eh sì sì ho visto scarico lo dico per quelli che mi rompono sempre le palle che non lavora che non lavori però cioè io preferisco non dover uscire da una fiera con mille euro in tasca a parte che poi ripeto se anche la persona a cui affido questo compito di cui io mi fido ciecamente non deve non c'è discussione tra di noi su quanti soldi abbiamo fatto se tutti i pagamenti sono con la carta non è banale cioè tu affidi una cosa e dici quanti passaggi si sono stati ok poi è chiaro che uno può regalare un libro cioè possono succedere mille cose però devi ridurre quelle schifezze lì a una percentuale ridicola residuale va bene allora questo diciamo è uno degli argomenti che viene normalmente abbracciato da destra quando si dice no però invece non bisogna farlo eccetera e poi tu mi dici è accaduto anche all'interno del partito democratico di conferenza perché si voleva la tassa sulla casa è la classica battaglia di Berlusconi il contante quel mondo lì no cioè Berlusconi ha sempre fatto di tutto per non digitalizzare niente no anzi peraltro come dire tutto questo avveniva anche in altre scelte quelle che ti dicevo sull'ambiente sul lavoro cioè Jobs Act ha fatto quella cosa che Berlusconi non era riuscito a fare mai che però non ha non ha avuto tutto questo impatto nel mondo del lavoro diciamolo ha avuto un impatto beh non lo so questo non lo so perché in realtà i diritti stanno scivolando sempre di più e le retribuzioni se uno non vuole guardare dal punto di vista dei diritti però ha avuto un significato definitivo che anche la sinistra che poi adesso è un argomento che usa Salvini che la sinistra si è messa a disposizione del adesso lui dice il grande capitale dei botteri forti però un po' è vero scusami cioè se tu se Renzi prese per il culo i sindacati il gettone all'iPhone mille polemiche inutili con tutta la sua parte politica peraltro senza spiegare come rendevi più forte il lavoratore cioè tu puoi dire io faccio una norma che apparentemente sembra favorire una non il lavoratore ma il datore di lavoro i grandi gruppi industriali ma vi sbagliate perché no perché tu dici non ha avuto nessun impatto secondo me non è vero ma comunque neanche in positivo potrei rovesciare la tua obiezione però se ne ha fatto una questione proprio identitaria della sinistra che è quello che stai facendo anche tu lui l'ha fatta la questione per dire che la sinistra non doveva più fare quella roba lì era molto forte in realtà era per amicare un elettorato e per dire ragazzi sciogliete le righe risultato peraltro che è governato cinque anni centrosinistra e i lavoratori giovani a cui magari ci rivolgiamo oggi non hanno un diritto in più una sicurezza in più è un euro in più nella busta paga sempre che abbiano la busta paga non siano pagati con sistemi strani comunque la parabola di renzi è durata quello che è durata meno di cinque anni eccetera in quei cinque anni tu te ne eri andato dal pd molti altri bersani a un certo punto sei andato dal pd dal e ma insomma tutti i grandi nomi eccetera eccetera e sono stati formati varie altre composizioni è ovvio che questa domanda cioè te la devo fare perché sei seduto qui e quindi ho l'opportunità di fartela non è stato un errore mi direi di no ma non è stato un errore no perché io recentemente stavo parlando c'è anche qualcuno che l'ha chiesto in realtà Stefano Basso fa proprio questa domanda di fronte a un centrodestra che diventa sempre più destra non verrebbe la pena che ciascuno dei partiti di sinistra rinunciasse a qualcosa dal proprio punto di vista per fare massa critica perché io recentemente parlavo con qualcuno sì io sono d'accordo però fammi dire anche questa cosa che mi dimentico no era Stefano Basso che l'ho d'accordo ok io recentemente parlavo con qualcuno con un politico del pd che è di orientamento simile al tuo però come diciamo punto di vista sulla società e lui diceva una cosa che anche io ho pensato diciamo pochi anni dopo che tu te ne sia andato dal pd cioè in questo momento con Renzi con tutte le spalle degli italiani voltate improvvisamente la probabilmente Civati sarebbe diventato segretario del pd no questo non credo perché in realtà per tante ragioni tra le quali il fatto che io non sono troppo libero non vado bene per quella roba lì nel senso che se ci pensi Znigaretti è ancora bersani alla fine è sempre eterno rimpallarsi tra dc e pc tra vestiti diciamo secondo me che però ha un elettorato ben preciso quella roba là non lo so sempre meno tra l'altro se non si svegliano secondo me si vabbè comunque vabbè ok però basso ha ragione però lui dice una cosa rileggiamo la sua dichiarazione ecco non varrebbe la pena che ciascuno dei partiti di sinistra perché esattamente questo è il problema la mia critica Renzi è al modo di fare poi il pd nel frattempo c'è governi con Berlusconi con Alfano cioè non è che è andato tutto liscio diciamo che io ero strano la critica che facevo era se tu vuoi che stiamo dentro il pd che è anche un modo per rispondere la tua domanda tu non puoi imporre in modo unilaterale il tuo punto di vista perché un partito non si basa soltanto sulle convinzioni del leader in assoluto perché il leader si dice guarda voglio abolire l'attico 18 e fare il pirla con i sindacati secondo me è una cosa molto sbagliata allora tu non è che non devi fare niente di quello che pensi però devi considerare che c'è un pezzo che rappresenta questa cosa sembra un'ovvietà ma invece è fondamentale per esempio un problema che ha Salvini con noi non parliamo sempre del pd Salvini se va avanti con questi toni qua esagerati probabilmente vince tutte le elezioni impossibili e immaginabili ma ha un problema perché il suo ceto politico scusami la sua costituzione si politica più forte che è nel nord che è nei ceti produttivi nel mondo commerciale delle piccole medie imprese artigiane eccetera quel mondo lì ha bisogno di molta concretezza e secondo me la tensione Salvini più che con la sinistra ce l'avrà con quel mondo lì rispetto per esempio all'euro a certi eccessi salviniani perché quelli poi hanno bisogno di schei di danesi adesso lo dico in modo caricaturale ma parlandone seriamente di risultati di certezze di un sistema che non si viva sempre un po' in modo dadaista all'opposizione di se stesso a far casino perché questi devono tirare insieme gli F24 i pagamenti questa roba se Salvini non la considererà Zaia ti dico Maroni ti dico dei nomi non salviniani se non la considererà farà un errore gigantesco e infatti lui è andato in sofferenza quando era il governo con i grillini sul tema dell'autonomia non su altre cose lui ha potuto fare quello che voleva sugli immigrati perché i grillini dormivano anche loro facevano finta di non capire lo salvarono col voto sulla piattaforma sulla 18 che è il punto più basso della storia repubblicana guarda io una roba così non mi pensavo di doverla vedere però sulla questione del radicamento territoriale della distribuzione delle risorse lì la Lega è ritornata Lega Lega Nord fortemente e su quello la contraddizione c'è stata per dire che per fare la morale di questa lunga parentesi che se hai un sistema complesso devi essere molto intelligente e rispettoso non rinunciare alle tue idee Renzi aveva vinto un congresso erano diventati tutti i renziani prima erano tutti i bersagnani le stesse persone in una settimana sono diventate renziani anche questo vuol dire che non è stabilissima la cosa ma senza fare battute quando diventi premier diventi segretario eccetera eccetera devi sempre pensare che c'è un 20% un 30% ma anche magari l'1% ma ha ragione può capitare che l'1% abbia ragione se tu gli scaghi addosso cioè questa roba qui non regge infatti lui non ha fatto vincere facendo così ha impoverito tutto quel campo l'ha reso arido perché adesso uno di sinistra il PD lo vota dicendo facendo le premesse no? alla fine ho votato il PD perché comunque perché c'è Salvini però non è convinto cioè non è che vai vado a votare il PD che dovrebbe essere l'atteggiamento di una parte magari lo sarebbe se persone che l'hanno abbandonato fossero dentro ma no perché le persone che ci sono dentro adesso Zingaretti doveva essere quello che rifaceva anche senza Ciccivati non è così importante sta bene anche a casa quindi Zingaretti è da solo adesso che è segretario potrebbe dare un'impronta diversa perché non lo riesce a fare non lo so questo bisognerebbe chiederlo a Zingaretti però ok ma io non ne facevo un discorso di nomi in realtà quindi volendo di fare dei complimenti non è una questione Cicvati o Zingaretti eccetera ma è proprio la questione del costante flusso all'esterno ma il flusso sinistra ha avuto la flamentazione se il flusso e le altre forze politiche oltre a rinunciare una parte delle cose come dice Stefano Basso riescono a trovare una missione condivisa cioè non è che Cicvati torna nel PD a me mi scrivono tutti i giorni 50 persone di tornare nel PD a parte che torna a far che cioè non lo so poi ti vogliono appunto seconda domanda terza domanda è per fare che cosa cioè io adesso ho preso una distanza politica militante attiva anche se poi come vedi sono appassionato lo stesso ma faccio un mestiere che peraltro è impegnativo quindi non ho neanche tantissimo tempo come una volta quindi mi dite la ragione è un po' il ragionamento che faresti anche tu io ho un'attività posso indicare un'ora al giorno a questa cosa se mi dite perché anche due ore al giorno ma anche una serata che vado nel medio campidano a parlare di una cosa però mi dovete spiegare qual è la ragione per cui lo stiamo facendo Salvini è brutto c'è i nazisti quello che vuoi però non basta mai quella roba c'è bisogno anche di una ragione tua per cui fai non soltanto di evitare che Salvini vinca ok perché è una buona ragione per la nostra parte politica per quello che pensiamo bisogna anche dare qualcosa in più e Renzi non era uno che giocava con la squadra e Zingaretti sembra non aver più la squadra quindi hai ragione tu cioè qualcuno è andato via potrebbe tornare però quali sono le condizioni per riprendersi Pogba non Civati ma Pogba come dicono gli Juventini sollevando la questione dall'Italia all'Europa diciamo al mondo anche queste ragioni si glisce dell'acqua se ne hai bisogno sì perché sto sorseggiando Mirto alle 11 di mattina non è una grandissima idea io ormai ci ho fatto mi sembrava difficile all'inizio però ora sta andando la sinistra è in crisi in tutta Europa secondo me almeno io la vedo così quali pensi siano le ragioni perché qualcuno visto che tu parlavi di ragioni per le quali votare o anche obiettivi da raggiungere per diciamo la sinistra nel suo nel suo insieme quali sono le ragioni per votare a sinistra perché la gente non sta votando a sinistra che cosa ha la sinistra da dare alla gente in questo momento no beh guarda in realtà le ragioni sono molto grosse che non sono appunto legate a piccole cose la cosa più importante è che si è persa una dimensione collettiva nella soluzione dei problemi non ci crede più nessuno a questa cosa qua troppi anni di individualismo feroce di capitalismo un po' anche di straccione a volte un po' semplificato un po' troppo semplificato per cui le persone sono convinte che l'unico modo è cavarsela da soli scomitare avere un successo molto narcisismo in tutti i livelli nelle classi dirigenti e questa perdita di una dimensione collettiva è devastante e la sinistra vive di quello vive di welfare state vive di eguaglianza vive di costruzione di rapporti per quello che ti dicevo bisogna sempre favorire il più debole la sinistra deve fare così insomma premiare chi è capace ma ricordarsi sempre che c'è qualcuno che non è che è incapace magari non ha avuto gli strumenti per affermarsi questa missione collettiva dal punto di vista sociale e quindi un impegno in questo senso dal punto di vista politico si sono largamente persi infatti l'unica cosa che è un po' a sinistra anche se il concetto è un po' diverso funziona è la sfida ecologista perché reintroduce dall'altra parte questi ingredienti cioè il mondo sta andando a finire male il nostro modello di sviluppo non è sostenibile quindi vedi che sono già concetti che riguardano sia me che te non è che possiamo sottrarci perché se uno è bravo e l'altro no c'è bisogno di un impegno di una strategia c'è bisogno di un progetto c'è bisogno di comportamenti sono tutte cose che coinvolgono le persone che hanno una missione che supera appunto la schieramento in tifoserie per quello che la destra impazzisce con Greta Thunberg perché questa ragazzetta piccolina è fragilissima dice le robe devastanti con la sua facina e soprattutto mette in discussione tutto un sistema di valore non è che attacca Salvini o la o la destra tedesca la Thunberg attacca quello che non ha funzionato in questi anni in queste generazioni precedenti alla sua la mancanza di un futuro di cui non parla più nessuno perché poi guarda adesso anche sulla plastica stiamo facendo un dibattito cioè bisognerebbe incelofanare quelli che ne parlano perché come si fa ad andare avanti così cioè noi abbiamo dei fondamentali della nostra economia dell'economia europea dell'economia mondiale che ci dicono che questo pianeta finisce non so se come dire cioè non è banale e noi siamo qua in temi di risorse di risorse di sostenibilità di roba da mangiare di come mangiamo di come alleviamo ci sono un sacco di cose tra l'altro mille cose da fare per la politica e la discussione da 15 giorni è la tassa sulla plastica che adesso ancora prima di decidere se è giusta e sbagliata capisci che è un pezzettino talmente microscopico di questa sfida che boh cioè chi è che si appassiona si incazzano quelli che fanno la plastica gli altri più o meno non gliene frega un cavolo cioè è un risultato di quando miniaturizzi tutto quindi invece la sfida ecologista soprattutto in Germania nei paesi scusami nei paesi del nord Europa questa cosa secondo me ha un valore fa rivivere alcune cose di sinistra in un altro linguaggio in un'altra dimensione però è chiaro che anche quello la sfida dovrebbe essere associare il clima le disuguaglianze non solo alla sostenibilità dal punto di vista ecologico ma anche alla sostenibilità sociale che è un altro tema che è un po' sparito e pensi che ci sia una sensibilità attualmente attorno a questi argomenti? secondo me sì il problema è che per esempio Zingaretti tu prima mi dici cosa dovrebbe fare timido consiglio da Cagliari questa roba magari farla un po' meglio di citare Greta alla fine dei comizi cioè c'è bisogno di prendere delle decisioni anche per esempio investire dei soldi per mettere a posto le nostre case far lavorare la gente non soltanto capisci cose astratte ma l'efficienza energetica tipo non so qua se siete efficienti energicamente ma se ti danno 10.000 euro magari ci pensi a far lavorare 3 o 4 persone per 3 mesi a mettere a posto perché non paghi più la bolletta dopo non so forse voi avete un po' meno freddo però d'estate fa un caldo una madonna quindi magari avete bisogno di condizionare se gli ambienti fossero più efficienti dal punto di vista energetico quelli pubblici le scuole gli ospedali noi risparmieremo un sacco di soldi vuol dire anticipare prima per fare gli interventi però non è questo il messaggio che passa quando Greta Thunberg parla è più una questione è più una questione un po' più drastica cioè se effettivamente l'elettorato torniamo proprio all'Italia quello è drastico quello che ti propongo io se facessimo quella roba lì sarebbe molto drastica ma adesso vai avanti non voglio interrompere è sempre una questione di elettorato e di argomenti Greta Thunberg mobilita un elettorato che non è neanche un elettorato spesso perché sono troppo giovani molto molto giovani gruppi di persone molto molto giovani che non sono la maggioranza nel paese non sono la maggioranza in Europa sono anzi molto sotto rappresentati sotto beh sì però in Germania i Verdi hanno preso più voti dell'SPD diciamo quindi sì è vero cioè dipende da come la politica segue la partita se la partita non la guardi cioè è un po' difficile cioè i ragazzi del Fridays for Future ci sono anche in Italia c'è secondo me una sensibilità sempre più forte tra le persone comunque c'è una domanda anche in famiglia i bambini nelle scuole anche mia figlia ha 7 anni è chiaro che è mia figlia quindi l'avrà sentito anche da me però l'argomento Greta c'è cosa succede dai rifiuti io non lo chiedevo ai miei genitori dove andavano a finire i rifiuti detto questo la politica l'accompagna questo processo se ne sbatte perché c'è Di Maio e Conte cosa dice Salvini cioè l'Italia fa così non c'è e Zingaretti per esempio o chi sta a rappresentare la sinistra al governo e in Parlamento dovrebbe invece inquadrarle in questi termini l'esempio delle case è fortissimo perché è una roba banale tradizionalissima non è che ti sto dicendo facciamo l'energia dalla geotermia cose strastruse le case consumano un sacco di energia le mettiamo a posto diamogli cittadini la possibilità di farlo perché è chiaro che uno non ha migliaia di euro a tirare fuori da un momento all'altro le nostre strutture pubbliche sono energivole la nostra mobilità è un disastro adesso io abito a Verona e c'è questa straordinaria diffusione dei monopattini elettrici che secondo me arrivano anche da voi presto sto aspettando i monopattini elettrico è chiaro che comporta un sacco a me fanno un sacco ridere quelle della mia età in su che vanno con il monopattino magari con la panza tu non lo fai? no io non lo faccio perché a parte che mi sono appena fatto male a una gamba quindi non vorrei rifarmene un'altra ma diciamo che sono in una fase di convalescenza ma il punto è il monopattino è una provocazione però è feroce rispetto all'uso della macchina cioè tu hai una cosa che non pesa niente costa a minuti quindi stai anche attento a usarla costa tantissimo secondo me non costa neanche poco ma potremmo fare dei monopattini come prossima iniziativa però hai un'app è tutto semplicissimo e soprattutto non devi parcheggiare non devi pagare non consumi non sprechi la macchina porta a te quanto porta a se stessa la macchina in termini energetici e di consumo è francamente affascinante questa dinamica c'è il mio amico che fa il commerciante il rappresentante di vini che l'altra sera arriva all'aperitivo e dice sono venuto al monopattino e ti spiego perché perché si era fatto la tabellina quanto risparmiava quanto tempo i rischi che correva dice io faccio la pista ciclabile qua attraverso sulle strisce basta e aveva finito quello è un esempio adesso il monopattino è una provocazione ma perché non indaghiamo sistemi per muoverci un po' meno devastanti di quelli che usiamo che c'è ancora la coda delle macchine tutte le mattine nelle nostre città perché cioè veramente un po' strano quindi sono questi gli argomenti che secondo te la sinistra dovrebbe fare i suoi diciamo che questi servono come anche come se vuoi come grande esca di una urgenza che è quella che le cose vanno pensate in termini più complessi più universali e tutti insieme cioè se io smetto di usare la macchina il mondo non si salva se costruiamo un sistema per cui noi tutti quanti possiamo avere un'alternativa alla macchina il pianeta magari lo salviamo non so come dire adesso sto facendo degli esempi veloci perché non è che è un convegno sull'ambientalismo no no per carità però è così cerco di capire quali possono essere gli agganci perché ritornando un attimo velocemente perché non ne parliamo più sulla questione di attrarre l'elettorato e convincere l'elettorato i temi sono sempre quelli giganteschi in questo momento sono le grandi migrazioni che peraltro sono collegate a questo è tutto collegato certo fondamentalmente sono queste tre cose la tradizione la sicurezza le migrazioni che vengono tirate fuori dal ciclo e poi vabbè i soliti grandi classici tipo meno tasse meno cocolo lo dicono tutti tra l'altro anche questo è curioso perché se ci pensi su questi temi quasi tutti dicono la stessa cosa poi uno esagera un po' di più però Minniti non era così diverso da quello che ha fatto non di quello che dice Salvini Salvini dice le cose orrende però tolta la retorica pubblica e la strumentalizzazione dal punto di vista cioè la Libia io sono qua da quattro anni che dico possiamo chiudere questi campi di concentramento libici per favore perché capisco che noi dobbiamo gestire l'immigrazione ma la tortura non la dobbiamo usare anche lì è uno scambio diabolico e pericolosissimo per evitare una cosa che può darti fastidio secondo l'opinione pubblica secondo allora io accetto tutto c'è anche spara la gente per non farla venire ragazzi perché è un po' un problema così può capitare anche a noi di dover andare all'estero ci sparano al confine con un altro paese però la gente non frega niente non è vero il problema è che se nessuno alla gente tu fai vedere una grande paura che peraltro secondo me la paura più grande è quella di cui abbiamo parlato fino a un secondo fa cioè che a un certo punto non tanto il mondo si sciolgono i ghiacciai ma che saltino un sacco di zone di confort nostre cioè che la società diventi sempre più divisa tra chi ha accesso alle risorse e chi no che ci siano guerre dappertutto perché forse non valutiamo bene anche questa cosa di avere guerre tipo la guerra in Kurdistan non è che non ci riguarda è qua cioè riguarda un paese della Nato che sta per entrare nella Unione Europea peraltro riguarda un popolo piccolino eppure non così piccolo diviso in 4-5 paesi che peraltro si comporta sempre bene con noi stai parlando dei kurdi lo dico perché ascolta quindi cioè per dire però ci saranno guerre tensioni l'acqua l'anno prossimo tutti parleranno del metano che viene fuori dal permafrost segnatelo e ci rivediamo fra un anno e parliamo del metano cioè tutte queste cose sono una grossa paura cioè io se penso alla mia figlia non sono preoccupato perché ci sono gli immigrati adesso sono preoccupato che lei debba prendere una scialuppa di salvataggio fra magari 20 anni 15 anni però ti dicevo sulle altre cose non c'è una spiegazione differente cioè siamo tutti in uno stesso flusso per cui gli immigrati bisogna fermarli nessuno si preoccupa di processi di integrazione di come è difficile poi costruire comunità che è la vera sfida ma nessuno te ne parla mai c'è mai una trammissione televisione in cui dice dove vanno a finire quelli che sbarcano no sono tanti rimpatriamoli no sei un incapace colpa del governo precedente ho capito ma dove vanno questi ragazzi queste ragazze che vengono qua perché i dati sarebbero molti per esempio moltissimi non si fermano in Italia perché esattamente come i giovani italiani dicono sai che c'è una volta che sono qua vado in Inghilterra vado un altro pezzo costruisce un percorso che è molto simile a quello dei nostri nonni cioè partendo da zero si fanno la piccola impresa magari ovviamente con la loro etnia con i loro riferimenti per cui fanno da mangiare come fanno da mangiare loro fanno dei servizi perché quelli della loro i tunisini fanno in quella città soprattutto quel tipo di attività è tutto un meccanismo che peraltro fanno i sardi i novardi i pugliesi cioè è un modo di vivere si portano un pezzo di loro stessi da un'altra parte però qual è la traiettoria quali sono i passaggi critici dopo essere stati accolti in un centro di accoglienza te ne ha mai raccontato no per esempio sappiamo cosa succede a quelli che sono stati accolti bene i sistemi gestiti bene qual è l'incidenza del lavoro che riescono a trovare perché ci sono dei dati interessanti nel senso che ci sono i posti dove funziona meglio dove quasi tutti trovano un lavoro ma non è banale cioè l'immigrato non ciondola più come direbbe la Meloni o Salvini dopo un anno un anno e mezzo va a lavorare toglie il lavoro agli italiani qua si apre un altro capitolo secondo me no ma non c'è tempo di spiegarlo ma comunque fa entra in sistema produttivo diventa un cittadino uno che paga le tasse lavora questa roba qua perché non la raccontiamo mai che è la cosa in cui ci interessa nelle nostre scuole quanto lavoro si fa io sono nella gruppo inclusione del nostro comprensorio scolastico no perché ho dato la mia disponibilità sono noiosissime piene di sigle terribili ma le maestre le professoresse delle scuole medie fanno un lavoro incredibile io sono affascinati cioè sono sono noiose però sono affascinato dalla qualità dalla competenza che ci mettono senza una lira senza risorse aggiuntive cioè queste persone si sono poste il problema di come integrare i bambini perché il resto la società non lo fa perché non parliamo di questa anche delle sue criticità non sto parlando del ben godio di un mondo perfetto perché poi paesi con tante ispirazioni diverse storie diverse non sono facilissime a gestire però non ne parliamo mai in questi termini è sensazionalistico l'egiziano che ce l'ha fatta l'indiano che ha fatto il successo ma ho capito ma parliamo di tutti sono milioni di persone migliaia di persone a Cagliari come stanno non è uguale a Brescia Cagliari quanti sono che fanno dove vanno quelli che arrivano qui che peraltro ho visto che c'è la preoccupazione di uno sbarco di immigrati sui giornali locali cioè a parte che mi sembra un po' difficile comunque che arrivino qua ma cosa vengono a fare in Sardegna gli immigrati quali problemi hanno creato davvero cioè ma davvero c'è qualcuno che te lo spiega poco no certo anche se la campagna con la quale ovviamente la regione è stata presa dal centrodestra che però è un po' paradossale perché la Sardegna che è un posto bellissimo ha un sacco di problemi di cui siete a conoscenza tra i quali non metterei nei primi anche volendola pensare come incidenza con l'immigrazione cioè questo è un problema di emigrazione è un problema di depressione di interi comparti di intere zone anche di questa stagionalità sempre più stretta sempre più violenta perché poi la Sardegna è un posto molto caro lo dice uno che viene spesso a trovarvi d'estate ha dei picchi vive di picchi questa cosa non è normalissima poi io sono stato quest'estate nel Sulcis in un bellissimo posto che mi si chiama Porto Scuso a fare la mia attività di scrittore editore eccetera insomma ci sono tante cose su cui lavorare non credo che sia colpa se a Porto Scuso le cose non funzionano non è sicuramente colpa degli immigrati anche perché sono cose che si trascinano da decine d'anni appunto io sono una persona molto pragmatica però credo che gli individui rispondano agli incentivi dicendo continuamente non parliamo di questo non parliamo di quello io sono perfettamente d'accordo perché su queste cose sono orientato abbastanza come te però stiamo combinando qualcosa perché se in questo momento è un momento storico cioè ci mettono anche Trump dentro tutti le persone rispondono molto a quello che banalmente anche troppo banalmente chiamiamo populismo non serve un populismo contrario sì però infatti guarda in parte sì a me il populismo mi piace perché non spiega mai niente mi dia ragione a dire ne parliamo troppo sei bravo però non lo so perché sei bravo sei attento a come si dicono le cose molto bene faccio il papà lo zio tanto mi hai già dato del vecchio oggi quindi sono bevo del mietto per dimitire però per esempio consiglio a tutti i ragazzi soprattutto che magari un po' di inglese lo masticano di seguire le lezioni americane perché lì c'è una grande cosa che sta nascendo fatta di personalità alcune già un po' più a parte anzianissime come Sanders alcune brillantissime sgarzoline come Alexandria Ocasio-Cortez però tante altre figure soprattutto femminili e soprattutto come dire che vengono da una storia lunga perché Ilan Omar è stata profuga Somala cioè ci sono tante storie c'è anche una rappresentanza molto stretta ho iniziato parlando tanto tempo fa ore fa parlando di rappresentanza queste persone rappresentano quello che sono loro cioè Alessandro Casio-Cortez è figlia di Portoricani che ha perso il papà quando stava decollando la sua storia accademica lavorativa ha dovuto lavorare lei ha dovuto mantenere non aveva l'assicurazione cioè tutte le cose che lei tocca le ha vissute cosa che da noi è un po' più complicato però questa cosa c'è tantissimo allora loro usano parecchie categorie che noi probabilmente definiremmo populistiche parlandone in modo eppure tematizzano questioni che sono un po' quelle che abbiamo toccato noi oggi paradossalmente nel senso che sulla questione della copertura sanitaria che sembra che noi ce l'abbiamo ed è dobbiamo conservarla perché mia figlia è appena stata in ospedale per una piccola cosa però è uno dei beni più belli e se io avessi dovuto ricoverare mia figlia per quattro giorni pagando io avrei speso un botto di soldi quindi il fatto che ci sia una macchina che lo Stato con le mie tasse garantisce a tutti quando ne hanno bisogno è una roba di una figata assurda e non so perché non lo parliamo così e sempre lamentarci di tutto comunque però la copertura sanitaria come sai tra l'altro la Sardegna ha un tema gigantesco su questo punto è un argomento da considerare sempre se ne parla poco e invece noi dovremmo capire anche lì cosa è utile fare per continuare a garantirla negli Stati Uniti come sai invece non è garantita parlano di disuguaglianze parlano di retribuzione oraria a prescindere dal lavoro che fai che è un po' il tema del salario minimo poi da noi si incasina un po' tutto perché c'è una lunga storia sindacale che loro hanno molto meno forte però il tema è che in Italia si sono mangiati i 5 stelle però si però hanno fatto i 5 stelle si sono mangiati tutto poi non ti dico cos'è non l'hanno digerito però perché tutti questi temi li hanno fatti diventare un casino che poi sempre tutti a botte di spesa assurde non lo so però quella cosa loro la dicono molto attentamente con molta proprietà sull'ambiente il Green New Deal per loro non è una slogan perché loro c'erano avuto il New Deal con Roosevelt e hanno la mozione di Ocasio Cortez la sua risoluzione al congresso è forte è fatta bene non è che sono solo minchiate ci sono delle cose da fare quindi anche Sanders è uno molto forte quando lui dice non devono esistere i miliardari in dollari è una affermazione forte però spiega che le disuguaglianze vanno ridosome è un modo spiccio per dire quello che cercavo di dire io prima quindi seguite quello perché io spero ovviamente che Trump non vinca anche se io l'altra volta avevo azzeccato che avrebbe vinto Trump tutti mi prendevano per il culo avevo ragione io purtroppo ero anche in televisione quando ha vinto con i miei amici collaboratori mi scrivano guarda che non ha vinto la Clinton e io dicevo no verso le 4 ha vinto Trump io ero già andato a dormire perché ero terrorizzato ero con Maria Giovanna Maglie credo tra l'altro una delle serate più strong della mia recente e non era così inviperita però era una fase un po' più moderata anche se stava però era contenta della vittoria di Trump sì molto contenta sì sì però se anche sperando che non vinca Trump i democratici americani hanno un bel dibattito al loro interno che fa capire molto bene le cose noi poi di Sanders e di Ocasio Cortez abbiamo lavorato anche sui loro testi cioè un po' una passione però una volta guardavamo con molta supponenza i democratici americani perché sembravano dei fighetti noi eravamo la sinistra europea adesso francamente ci insegnano loro un po' di roba soprattutto sulle questioni che dicevamo Facebook le risorse il petrolio l'ambiente il cosmo le guerre cioè hanno per ovvie ragioni perché tutto un po' è partito da lì succede negli Stati Uniti nei grandi flussi finanziari eccetera però loro hanno anche una politica che ne parla molto più di noi noi è Soros siete pagati adesso che tra l'altro faccio un appello se Soros mi vuole pagare io sono comprati un po' di libri esatto mi compri qualche libro Soros invece c'è tanta genuinità a destra e a sinistra non solo a sinistra non c'è sempre la schifezza dietro le cose però per dire che noi lo facciamo diventare una caricatura invece come si fa a trovare un equilibrio tra le piattaforme e la democrazia quando si parla di privacy comunicazione proprietà dei dati lavoro questo è il tema di oggi la politica dovrebbe parlare di quello e secondo me loro lo fanno ecco tu dici non parliamo loro parlano di quello bisogna tradurre bisogna guardare lì quindi di fatto quello che mi stai dicendo è che la sinistra deve cambiare davvero tanto tantissimo a prescindere dal per dire ho visto da poco il video che tu hai fatto due anni fa con GP nel quale tu sei la madre con falce a martello però tu in realtà sei molto lontano dalla visione classica della sinistra in Italia ma infatti io sono completamente diverso da come molti mi raccontano ma le questioni che a me premono di più sono proprio queste cioè che se vuoi poi è la vera sfida della sinistra la sinistra indaga le ferite le fratture e dove sono davvero cerca di capire dove sono davvero secondo me adesso sono lì cioè il rider che viene pagato a cottimo e che quando discute con il suo datore di lavoro parla con gente che gli dice no ma non sono stato io a decidere è l'algoritmo che l'ha deciso ma no ma io non sono io a definire quante chiamate ti arrivano ma è la macchina organizzativa questa roba qua io non voglio negarla non voglio cancellare le piattaforme non voglio togliere il lavoro però vorrei trovare un punto di equilibrio un po' più avanzato cioè che una persona non è un professionista intermittente uno che consegna i panini non è uno come me come te che stamattina viene a Cagliari e fa una trasmissione e lo fa per mille ragioni remunerative o nel mio caso in questo caso no ma insomma per magari farmi ascoltare dalle persone cioè uno che consegna un panino fa fatica punto non può guadagnare magari 5 euro perché quella sera lì piove e la macchina non gli dà le consegne ok è vero però quando è saltata fuori la questione dei rider che avevamo peraltro sollevato i 5 stelle no l'avevamo sollevata prima noi ma non contiamo un cazzo però l'avevamo sollevata prima noi intanto la mia è una critica perché io poi ne ho parlato con vari rider figurati quanti ce ne sono che mi seguono che sono tutte persone giovani certo erano tutti contro l'idea che lo stato potesse mettere un minimo orario cioè preferivano beh non è vero che sono tutti contro perché potrei portarti un sacco di rider che sono a favore però il tema secondo me però guarda che questi ragazzi adesso faccio un esempio che non c'entra un cavolo con i rider ma che spiega tutto io ricevo offerte proposte di persone che vogliono lavorare con noi che sono disposte a lavorare gratis che sono disposte a farsi pagare malissimo che sono le prime a evocare il concetto che secondo me è spesso terribile di stage della serie piuttosto che niente è meglio piuttosto si dice a Milano questa roba sta devastando noi siamo non tanto io ma i miei soci che se ne occupano di più a spiegare ai ragazzi che non è così che noi se possiamo assumere una persona la assumiamo e la paghiamo prima con un contratto a tempo determinato che convertiamo subito se come abbiamo già fatto in indeterminato perché si fa così perché poi io vorrei che le persone che lavorano con me imparino sappiano fare bene il loro lavoro magari prendano anche da fare un po' del mio eccetera eccetera i ragazzi sono disposti a venire gratis questo è il tema quindi quando tu dici sai mi danno 3 euro a me mi servono quei 3 euro ho capito ma non va bene perché tu mi stai portando un panino magari ti tira sotto una macchina non sei assicurato la bici ce la metti te cioè magari non te ne rendi conto ma ti stanno fregando e soprattutto io sono su un divano magari posso pagare un euro in più che va a te non nella consegna ma nel garantire che ci sia quella assicurazione che ci sia una continuità di retribuzione che tu magari fai 5 anni rider perché stai facendo dell'altro non hai modo di non so per mille ragioni però alla fine dopo devi prendere una pensione o devi avere comunque una garanzia di essere di avere un welfare minimo cioè questa roba dobbiamo ritornare a per non è vetero capito cosa voglio dire no ma quello che volevo dire io è che ovviamente il meccanismo elettorale funziona politico funziona che io mi faccio al fiere delle tue battaglie tu mi dai il tuo voto questa è la democrazia rappresentativa c'è un'interlocuzione con queste persone perché ripeto magari quelle che hai sentito tu noi ce ne siamo occupati tantissimo in tutte le grandi controverse e avvertenza che c'è a Torino Bologna noi questa cosa la conosciamo abbastanza bene il tema però uscendo dal dal tecnicismo è ricordiamo questi ragazzi che devono ma per non solo per se stessi ma per tutti quanti pretendere di più perché non esiste cioè ti ripeto una volta uno che faceva rider a parte rider non esisteva ma insomma che faceva un lavoro di fatica così poteva comprarsi una casa alla lunga adesso non è neanche immaginabile che tu facendo rider metti su una famiglia adesso non so cosa ti dico questa cosa sta facendo scivolare tutto perché così succede anche nel mondo del giornalismo succede anche in ambienti fighetti strafighi in cui uno dice sai faccio anche nell'ambiente editoriale ci sono un botto di case di tri lo dico non per farlo stronzo ma che questi discorsi seri che faccio io non li fanno e non va bene perché invece il lavoro editoriale la qualità anche ma banalmente la vita di tutti perché poi queste persone che non guadagnano niente cosa compreranno comprano i tuoi libri come diceva Ford delle macchine no perché non c'hanno i soldi neanche per comprarsi i miei libri sì e per te sei su youtube quindi sei più sei di piattaforma scherzo però se dovessi chiedere un contributo se si impoveriscono tutti quelli intorno a te tutti i tuoi ascoltatori questa dimensione dobbiamo ritrovarla so che sembra un discorso di cento anni fa però francamente a volte le cose antiche buttate via con troppa leggerezza non no non sono così trascurabili può essere che sia anche una questione di fiducia nel corpo politico però perché per dire io per tantissimi anni sono d'accordo ho fatto questo lavoro guadagnando pochissimo anche in situazioni assolutamente al limite del vivibile e tu adesso non vorrei che lo Stato mettesse le mani io sono molto precario nel senso che di fatto ho una partita IVA perché dovrei mettere le mani nel tuo lavoro perché io ho paura che i 5 stelle diciamo parliamo parlando dei rider rimaniamo su di loro cerchino di normare una situazione che è un po' quella che magari causando che ne so un passo indietro delle grandi piattaforme che ti offrono un certo tipo di non lo so però secondo me guarda in questo caso il punto di equilibrio è molto arretrato che abbiamo adesso cioè le piattaforme ti ripeto è una cosa che non è la logistica pesante le questioni neanche Amazon che pure parliamo io sono a casa voglio il panino a casa perché sono stanco non ci voglio andare a prenderlo quello che viene a portarmelo deve essere pagato certo poi deve essere pagato 100 euro consegna evidentemente no non facciamo i cretini però ti ripeto ci sono delle questioni soprattutto sulla continuità che sempre lo so che i ragazzi non ci pensano alla continuità perché uno dice cazzo me ne frega prendo 10 euro 15 euro 20 euro no dormo in camera con un altro me la cavo cioè l'abbiamo fatto tutti sto ragionamento il punto è che questa cosa sta diventando sistematica tanto che ti facevo l'esempio su di noi l'ambiente più tradizionale del mondo la casa editrice che uno dice guarda io siccome siete belli mi piace quello che fate vengo anche vengo anche nudo alla meta no questa cosa è pericolosi cioè è apprezzabile fa piacere è un complimento dire starei qua tutta la settimana ok però non va bene perché introduce un meccanismo in cui tu assumi la colpa delle cose che non funzionano cioè ti fai carico tu di un mondo di merda no perché finiamo male e soprattutto questi ragazzi non so come faranno perché io vedo questa lunga precarietà che dura tantissimo poi tu ce l'hai fatta tra virgolette rimani precario ma hai trovato una strada se però altri meno fortunati meno talentuosi magari anche sfigati proprio questi qua cosa facciamo e secondo me non va neanche bene recuperarli cioè che il meccanismo sia poi quello del reddito di cittadini cioè va tutto talmente male che ok pareggiamo secondo me noi possiamo da vivi intervenire perché il rider abbia pagate 3-4 cose in più rispetto ad adesso che non ce l'ha abbia riconosciuto uno status di lavoratore che non è quello dell'avvocato di grido perché non è la stessa che adesso non sono tutti avvocati di grido comunque appunto però sto dicendo che invece tu i rider li consideri professionisti che si prestano quando cavolo gli pare poi come sai non è esattamente nemmeno così quindi questa battaglia serve per rafforzare i diritti di tutti si parte ai rider si passa a quelli che lavorano in condizioni discutibili nella logistica che non è solo Amazon perché poi è un mondo a parte tra l'altro anche l'inquiz è super normato e su questo hai ragione e poi ci sono tutti i meccanismi per scansare le norme subappalti a me è capitato di discutere in un'avvertenza la Coca-Cola di Nogara mi pare che fosse il paesino il paese e la questione era legata alla logistica e i soggetti erano quattro perché c'era la Coca-Cola che appaltava una grande azienda multinazionale della logistica che appaltava a una cooperativa che al proprio interno aveva delle articolazioni per cui stabilivano meccanismi di gerarchie diverse dai lavoratori quindi quattro strati della torta non bene perché poi alla fine la discussione è tutta commerciale di trattativa no neanche più sindacale chi è che decide la Coca-Cola no la Coca-Cola mi dicevano noi abbiamo dato ai tedeschi i tedeschi dicevano no ma noi abbiamo appaltato la cooperativa il risultato che questi ragazzi poi la cosa forse era stata enfatizzata non era così non so ma fu una questione un po' controversa i ricordi usarono il taser c'era un po' di casino no non lo ricordo eh sì ci furono accusati il taser su chi fu usato sui lavoratori che protestavano ci fu un'accusa molto cioè furono accusati di averlo usato però anche lì non si capiva insomma però alla fine questo sgramare questo rosario questo calvario di cose non va bene perché questi lavoratori sono interscambiabili e senza nessun diritto e questa cosa non è colpa di Renzi prima abbiamo detto che non è colpa di Civati però è colpa di un mondo che non deve essere salvato da le pedalate dei ragazzi perché tanto la vita è lunga perché così non si va da nessuna parte ok quindi tu ti sei allontanato alla fine dalla politica attiva anche se ci hai provato a rientrare nel Parlamento Europeo giusto? questa è una piccola concorrenza no ma in realtà no in realtà non ci ho provato molto seriamente nel senso che ci ho provato seriamente perché la causa era nobilissima era quella di verdi europei che come hai capito mi piacciono però ti sei allontanato mi sono candidato no ma in realtà quello dell'allontanamento se vuoi un altro capitolo ancora ok no mi ero candidato perché le liste erano fatte all'ultimo minuto per dare una mano molto genuina non pensavo di essere che non sarei stato eletto anche se quella lista poi è andata molto meglio del previsto rispetto al trend dei verdi poi c'è stata la solita cavolata diciamo così perché siamo a Cagliari e la città è bella si sta bene perché direi userei altri termini di candidare nelle liste verdi quelle progressiste europeiste più fiche più avanzate personalità che vengono dal mondo sovranista non si capiva bene neanche chi le avesse sai quando poi incominciano a non risponderti io ho una vecchia ho una vecchio riflesso per cui quando mi prendono in giro sento che c'è un trucco francamente proprio perché non lo faccio per interesse personale che sto facendo dell'altro metto a disposizione il mio nome la mia piccola credibilità per fare una cosa non è che la devi rovinare insomma ma perché all'interno era entrato un partito lo dico per chi non l'avesse seguito era entrato un partito che era di diciamo di destra molto rigorosa però green giusto? perché esiste questa cosa no? dai green cosa cioè aveva delle posizioni che erano contro tutto quello che i verdi europei dicono cioè l'Europa federata ma insomma riconosciuta come età non sovranista allora erano sovranisti le migrazioni come grande tema del futuro ma non certo chiudete i porti questo addirittura il capo veniva dalla MSI faceva dei segni strani anche nelle foto cioè adesso va bene tutto ma poi soprattutto non si capiva chi li avesse sai quando tu dici ma scusa ma questa dove siamo? non lo so ma la telecamera è accesa boh ma il microfono funziona chi te l'ha detto così cioè vaffanculo no sì ok quindi tu hai deciso però non è che era per rientrare era un modo per dire c'è una bella battaglia che peraltro io come sai frequento di più sul versante culturale infatti volevo arrivare lì e quindi io ho detto diamo una mano poi non è che ho smesso di frequentare le elezioni non mi hanno tolto i diritti elettorali attivi o passivi ma non è che vorresti accusarti di fare politica no sto giocando io figura poi se capita torno volentieri non faccio neanche quello che smesso sai quello che disse se perdo il referendum non faccio eh sì non so di chi stai esatto neanche io io non faccio così se torno e c'è occasione di farlo e di fare belle cose domani mattina altrimenti continuo a fare con grande onore e passione è un'altra cosa che peraltro non è così sconnessa che è gestire questa questa casetrice che si chiama people sì l'hai fondata tu l'abbiamo fondata insieme ad altre due persone che sono Stefano Catone e Francesco Foti facciamo delle cose molto belle abbiamo un sito che si chiama peoplepub.it trovate le cose che facciamo ci sono anche dei contributi gratuiti perché vogliamo fallire prestissimo quindi regaliamo anche dei piccoli libri perché quello che ha fatto è un po' attivismo alla fine cioè è una casetrice però ha un orientamento attivista in un certo senso sì e poi cerca di raccontare quelle trasformazioni che magari appunto non sempre vengono presi in pieno da chi dovrebbe interpretarle per cui per esempio c'è un libro bellissimo che vi consiglio molto che è appena uscito di Esperanza Ripanti che si intitola E poi basta ed è la storia di una ragazza nera che è un libro molto bello e peraltro dice cose molto potenti una ragazza del Ruanda lei è una ragazza del Ruanda che tutti invitano per parlare di immigrazione lei è semplicemente stata adottata e spiega che non è che se sei nero sei immigrato sì che parla con un accento bresciano spiccatissimo che racconta di questa sua consapevolezza di essere nera maturata nel corso del tempo per spiegare che le cose sono sempre un po' culturali non sono mai solo naturali scontate uno vede una cosa e dice così c'è sempre un processo e soprattutto nella trasformazione di un paese in cui prima era un fatto esotico il nero e poi è diventato un fatto problematico anche perché lei non è non è vecchia come noi caro mio ma è più giovane però nello stesso tempo ha vissuto già questa trasformazione su di sé perché è durata pochissimi anni certo perché lei prima era la ragazza l'unica nera e comunque era la figlia dei signori che l'hanno adottata nella percezione nel colloquio nel paese dove stava e dopo è diventata una delle tante che poi magari se sta a aspettare l'autobus pensano che sia una prostituta perché purtroppo i cliché o i riflessi sono tremendi a volte quindi racconta di questo paesaggio peraltro anche con una grande storia di sua formazione esistenziale perché poi l'altra cosa è smettere di parlare con paternalismo cioè finalmente lei lo chiede sempre quando presentiamo il libro ma c'è qualche altro nero in sala? perché poi non c'è perché poi la verità è che noi avevamo una società molto divisa ancora nonostante tante chiacchiere e lei si chiede banalmente com'è la vita di una ragazza che poi sia nera o no questa è una proiezione nostra perché lei è bresciana indubbiamente bresciana certo poi nello stesso tempo viene da Ruanda anche questa cosa delle due o più identità è interessante perché poi l'identità non è mai solo una lo diceva Martia Sen è composita è fatta di tante cose e certo lei il fatto di essere africana nera di essere nata in Ruanda di avere vissuto l'abbandono e quindi la vita in orfanotrofio e poi le avvisaglie di quello che sarebbe stata la più grande devastante guerra civile mattanza degli ultimi anni e tutto questo conta per lei cioè non è residuale quindi allo stesso tempo è tutta bresciana e no e però forse dovremmo prendere un po' meglio a fuoco la vicenda e pensi che questo percorso che c'è stato sia reversibile perché io conosco delle persone che mi parlano di questa cosa qui mi parlano dell'essere passate proprio da essere figure esotiche quasi si definivano diverse ma in modo positivo tipo che tutti guardano e dicono oh guarda a invece essere percepite come un nemico pensi che sia reversibile facilmente no? perché i ragazzi sono moltissimi è perché la percezione di quelli che crescono con loro è molto diversa ancora e non è ancora quella di esperanza non è nemmeno la nostra è qualcosa che cambierà che sta cambiando però i ragazzini che io vedo la questione razziale la proiettano la vivono sempre sugli altri no? cioè l'immigrato il figlio di immigrato che poi spesso non è immigrato ma insomma si 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 è diverso cado nell'equivoco anch'io per spiegarmi ma il diverso non lo è lo sono gli altri quelli che stanno arrivando io per esempio ho conosciuto un giovane di origine algerine che è nato a Verona che era salvignano poi è andato in crisi perché Salvini ha attaccato l'islam per dire come le cose sono complicate lui la sua famiglia è un po' tradizionalista islamica però lui piaceva Salvini pur essendo algerino perché erano troppi gli altri dico ma scusa ma te da dove cazzo vieni cioè con rispetto e simpatia abbiamo fatto delle belle discussioni con lui però è andato in crisi quando Salvini ha attaccato l'islam perché quella era la sua storia per cui sarà un po' un casino però nello stesso tempo ci saranno trame diverse dagli italiani contro il resto del mondo e questo derby ridicolo come anche un po' è stato nella vicenda di Balotelli dove la città di Verona si è dimostrata di avere un sindaco che non lo so io non so se hai seguito sta storia sì l'ho seguito l'ho seguito cioè il sindaco tu l'hai vista da vicino perché sei di Verona cioè vivi a Verona sì non era lo stadio peraltro la curva dell'Ellas è una curva molto orientata politicamente sull'estrema destra quindi insomma tutta sta sorpresa fa un po' ridere perché questi fanno le feste con i saluti romani nei giorni ad Adolf Hitler fanno tutte queste cose qua tutta sta canta però la cosa ridicola è che in quella partita avesse segnato un ragazzo nero comunque insomma non bianco se dobbiamo ragionare in questi termini per il Verona che Balotelli insomma è bresciano poi adesso c'è tutti i guasti nostri Balotelli è proprio un ragazzo un butella direbbero a Verona fatto così peraltro è anche un po' pirla cioè ci sta tutto è un tipo come me come te che ha fatto delle cose e si è aperta una discussione surreale perché è vero che c'erano stati gli urlati perché è vero che quella curva continua a giocare col fuoco del razzismo da sempre sbastiche celtiche tatuaggi strani c'è tutta una roba un'autorappresentazione tutti con Mussolini da tutte le parti ok però la società assomiglierà di più a quelli con Mussolini da tutte le parti o non dico a Balotelli ma magari a quello del Verona che ha segnato non era buono perché era dell'Ellas mi spiego quella trasformazione in atto c'è già insomma ed è sembra una puntata precedente Balotelli contro la curva mi sembra un film di qualche anno fa forse la società è un po' più avanti tu dici io invece la percepisco come un po' regredita sotto c'è gli aspetti io spero che la realtà sia più forte e tutta questa trama dei compagni di classe di mia figlia delle persone che appunto fanno le scuole insieme che mia figlia non riconosce se io devo indicare una persona nera lei non non capisce cioè per me è naturale dire lei e no non è uno scherzo cioè per me per te per come siamo cresciuti a scuola il nero si notava per mia figlia lei ti dice ma quella con i capelli corti cioè non arriva al cuore della pelle è fortissima sta cosa mi sembra strano perché io noto anche gli occhi azzurri appunto ma il colore della pelle spiegavo proprio questo che è una delle tante caratteristiche non è la prima per lei ok ah ok ho capito perché è abituata a un paesaggio umano più multiculturale esatto in cui ci sono tante sfumature per esempio la sua prima babysitter che era un po' scura lei non notava adesso se le richiede una sua compagnia di classe che le dici dai quella hai presente quella lì che non io non dico nera ok ho capito cosa intende quella che si veste di rosa ha degli parametri che precedono il colore della pelle sarebbe bello che quell'ingenuità che spero che lei conservi diventi un tratto universale cioè che non me ne frega se uno viene da Cagliari o da Milano no perché non è che questo l'abbiamo superato speriamo speriamo di sì diciamo al 99% l'abbiamo superato se superassimo anche il colore della pelle secondo me i nostri fini i nostri nipoti sarebbero sarebbero in un mondo più bello quindi è una questione di 20-30 anni secondo me sì anche 10 magari poi sarà interessante capire perché secondo me gli stranieri votano come gli italiani quindi questa balla per cui farli votare o quando voteranno secondo me votano Salvini purtroppo lo dico con una provocazione di cui che lui rispungerebbe ma anche questa discussione sullo Iussoli ma scusa ma secondo te uno che abita nella provincia di Verona vota Civati invece di Salvini come fanno l'80% delle persone perché è nero di pelle ma non è così cioè posso garantirvelo soprattutto perché vengono da paesi in cui certe per esempio il tradizionalismo di prima c'è anche in quei paesi lì è molto magari più spiccato che nel nostro quindi magari va ad alimentare pensieri conservatori pensa sulle donne sull'omosessualità ma anche sui rapporti tra le persone tra le etnie insomma più che altro potrebbe essere quella la questione perché ad esempio voi siete voi dico people in generale avete anche questa tendenza a dare tu spesso lo stesso ne parli su twitter voce alle questioni di genere si addirittura c'è una domanda di Silvio eccola qua lui dice ho notato che il manifesto di possibile che credo valga ancora si si valga è dichiaratamente femminista e pieno di riferimenti che adottano il linguaggio di genere ad esempio tutte e tutti è una cosa che ho notato anche io che tu fai questa cosa potrebbe allontanare magari dei tradizionalisti però il fatto di viversi di vivere questa differenza del diverso che la Meloni e Salvini sollevano le persone la capiscono io tutte le persone che vedo e fanno parte di minoranze non votano lì non votano non lo so io sono purtroppo magari ne parliamo anche perché non so quanto dura questa cosa abbiamo quasi fatto no scherzo ma per dire che ci allungheremmo però secondo me non è così automatico c'era una una delle degli studi scientifici che ho seguito qualche tempo fa in cui l'orientamento politico era definito molto rispetto alla provenienza geografica io scherzavo dicendo che all'est europeo era un disastro perché votano tutti a destra che invece il collegio nostro era Africa e Sud America eravano fortissime per esempio gli asiatici votano a destra o comunque hanno una storia personale di autoaffermazione che gli fa somigliare di più all'imprenditore della Brianza che ha il compagno toscano non so come dire io ci giocavo sull'orientamento però per spiegare che dare il voto a parte a bambini che sono nati in Italia della cittadinanza o quelli che sono cresciuti per il 90% della loro vita secondo me è ovvio anche su questo c'è una canea una strumentalizzazione un'incertezza del cetrosinistra anni buttati via ma se uno a 18 anni sei italiano cioè e se lo sei anche a 16 no non è che devi chiederlo a 18 lo sei a 16 meglio anche perché poi non puoi fare le corse internazionali di queste storie ridicole dei nostri atleti dei concorsi della possibilità di andare a studiare all'estero di cose banali che però tutti vogliamo fare non si capisce perché un ragazzo solo perché è nero o perché i suoi genitori vengono in un altro paese non li può fare mentre uno di Cagliari di Monza sì ma comunque questa storia non è non significa che vince la parte mia perché i riflessi sono la composizione di una scelta politica elettorale certo dipende dal fatto che Salvini è contro i neri o contro l'islam tanto che il suo amico l'ha perso o forse l'ha messo in difficoltà però dipende anche da cosa uno spera di avere nel suo percorso esistenziale no cosa si sente appunto le differenze il genere le donne l'economia la sua attività magari una partita IVA senegalese pensa come una partita IVA bergamasca quindi secondo me semplicemente c'è una cosa che si è vista negli Stati Uniti perché Trump è un po' strano da questo punto di vista ma negli ultimi vent'anni il voto tra virgolette su base etnica o culturale è stato molto importante e il passaggio di una parte del voto ispanico verso i democratici ha determinato moltissime tornate elettorali perché prima o per esempio se vuoi vedere la composizione dal punto di vista religioso il rapporto tra mondo protestante e mondo cattolico negli Stati Uniti si è molto articolato nel corso degli anni questo fa pensare che anche da noi sperando che non ci sia il solito partito religioso perché io temo che buttiamo sempre in cacciara noi partito pensionati partito islamici ogni volta c'è qualche partito che si rifà più al mondo religioso di altri esatto però forse sarebbe bello vedere quella stessa ricchezza proiettata su uno scenario un po' più ambizioso sul piano culturale politico ti faccio un'ultima domanda flash poi finiamo perché sono curioso riuscite a vivere vendendo libri anche se nessuno legge sì siamo tre soci due dipendenti due collaboratori esterni nel senso un po' più tattici diciamo bene aspettiamo Natale perché si legge solo Natale quindi confiniamo che questi ultimi due mesi siano strepitosi da quanti anni ho parata? no da gennaio ah quindi è proprio una cosa recentissima poi ti dico ti racconto oppure mando dei curriculum ah ok no no comunque va abbastanza bene ti ripeto prima di avere una anche perché c'è tutto un meccanismo di pagamenti molto di razione insomma è complicato quindi per dire che va molto bene devo aspettare ancora qualche mese però quando si dice che non si legge è vero però non così tanto che non si vendono i libri? beh sai dipende non è che c'è un gruppo industriale editoriale da centomila dipendenti cioè abbiamo una dinamica molto poi sai noi il nostro hashtag è Brianza ci prendiamo siamo i tironici nel senso siamo attenti facciamo le cose che ci possiamo permettere siamo molto cauti e abbiamo anche la fortuna di non partire da zero perché tutta quell'attività di relazioni che avevo prima l'hai reconvertita dicono i cinque stelle sono nati da nulla Grillo conosceva anche tutto l'elettorato aveva un'attività da anni in giro per il paese lo stesso in misura piccolissima insomma io qualche numero di telefono ce l'ho insomma qualche accesso a contatti e strumenti evoluti insomma la fortuna anche un po' forse di lavoro che ho fatto è in gioco però ci sono tante per esempio tu dicevi che eri il più vecchio io sono il più vecchio di People sono tutti giovanissimi le due ragazze e le nostre dipendenti sono super giovani e super brave oltretutto hanno fatto le scuole che fanno il lavoro per cui hanno studiato tutti i luoghi comuni che facciamo saltare il nostro illustratore delle copertine che è bravissimo è un ragazzo con poco più che 20 anni insomma è tutto molto bello tutti di sinistra sì oggettivamente scherzo no però un po' sì beh ma insomma anche perché la nostra linea editoriale lo è sarebbe un po' difficile scrivere in bocca al lupo grazie mille per la chiacchierata super interessante siamo stati un po' lunghi il Mirto ha un po' annebbiato lo so funziona così è un trick grazie mille grazie a him come è ora abbiamo fatto la donna grazie mille 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 grazie mille